Uno dei motivi per cui è nata l'idea di promuovere questa iniziativa in ambito di economia circolare e quindi come soluzione concreta al problema della gestione dei rifiuti è perché 85 comuni fino ad oggi 89 ai dati del 2016, però visto che possono essere sempre soggetto di rettifica perché i dati sempre ai comuni li comunicano con dei ritardi e comunque con una differenza a meno di un anno comunque sopra gli 80 comuni entro i 90 hanno già la tarifazione puntuale qua in Lombardia. Il fatto è che non tutti hanno la percezione e la consapevolezza e la conoscenza di questo strumento quanto sia efficace nel concretamente aumentare la qualità e la percentuale della colta inferenziata e poi inserire un principio che Marco dopo spiegherà bene che è il chi inquina paga cioè disingentivi totalmente la produzione di questi benedetti materiali perché poi chiamare i rifiuti è in qualche modo un errore semantico apposta per tutta una serie di secondo me di concetti che vanno un po' a accettare poi che devi bruciarli in qualche modo smaltirle quindi anche accettare piacevolmente l'idea dell'inceneritore ma questa è una mia idea. Quindi vado avanti per farvi questa breve introduzione facendovi vedere queste slide che descrivono un attimino al di là del concetto che dicevo poco fa spiegando che cos'è la tarifazione puntuale che sostanzialmente riesce a far pagare al di là dei costi fissi che quelli secondo la gara d'appalto tutti giustamente pagano però incidendo sull'indifferenziato riuscendo a fare un conteggio dei sacchetti o in certi comuni anche il bidoncino c'è sempre comunque un codice a barra, un chip che tramite il sistema di conteggio di quanti sacchetti o bidoncini l'utenza comunque il cittadino produce, fornisce e conferisce da far poi ritirare a fine anno si determina una tariffa diversa come dicevo poco fa quindi infatti come dicevo prima chi inquina paga era quel discorso di non è che tutti hanno come il regime ordinario dove non c'è questa tariffazione puntuale che tutti pagano il massimo cioè il totale, il 100% del costo della gestione dei rifiuti viene ripartita a tutti la stessa cifra ho trovato degli esempi concreti si qua cita la stessa cosa che dicevo prima rispetto ai 80, vedete, prima ai 80, quasi 90 comuni però ci interemo a farvi vedere che già in tre comuni essenzialmente ho notato di più però non sono molti purtroppo ma in tre comuni essenzialmente ha superato l'80% di raccolta differenziata questo strumento infatti se vedete solo ad abbiate grasso quando è stata inserita hanno guadagnato il 40% cioè mi piace precisare un'altra cosa che l'impatto o chiamiamolo l'istituzione di questa iniziativa dà un risultato concreto l'anno dopo al cittadino primo, come abbiamo visto Cusano e sempre anche qui Marco vi spiegherà meglio primo sostanzialmente fa fare la differenziata a chi prima non la faceva perché questo è un dato che purtroppo è molto che dispiace notare ma purtroppo c'è ancora gente che non la fa neanche la differenziata e poi con qualche dato che dicevo ad esempio al Bairate dove hanno un impianto dove possono conferire l'umido è il secondo comune dove ho trovato dove ha avuto il maggior impatto vedete la diminuzione sulla frazione indifferenziata che è quello che dicevamo poco fa che alla fine è anche il dato più alto se vedete, il meno 18% quindi sul totale del materiale comunque dell'immondizia che ogni famiglia produce dal punto di vista non solo economico ma comunque ambientale, salutare che è quello che poi non sempre non si percepisce perché il costo della nostra salute ambientale come sappiamo noi lo paghiamo in mille modi però non è mai quantificato espressamente quest'altro comune è appunto Seveso dove io non me lo ricordavo ma appunto studiando di nuovo i documenti è venuto fuori che addirittura è stato etichettato come comune riciclone ma sono riusciti ad avere dei vantaggi enormi cioè anche lì il 35% in più rispetto alla raccolta che avevano in precedenza quindi vi do era solo un'introduzione per dare un'infarinatura perché dal punto di vista tecnico il portavoce al comune di Cusano Marco Fais è riuscito a portare tramite un percorso lineare non essendo sindaco ma essendo semplicemente un consigliere portavoce locale di minoranza da solo o con Benedetto comunque sì insieme al gruppo però comunque specifico questa cosa perché molti vanno in consiglio comunale direttamente con la mozione non va molto bene perché sembra una barzelletta ma tutta quella trafilla di diplomazia che di parlare comunque con le altre forze politiche o di uffici stessi di tutta una sorta di anticamera per tastare il terreno e far capire la buona fede dell'iniziativa c'è tanta gente che dice economia circolare che cos'è una banca nuova cioè non sanno neanche cosa cos'è purtroppo ancora il concetto di economia circolare quindi per dire già che tu arrivi con una soluzione concreta gli dici che l'anno dopo impatta così tanto economicamente appunto dal punto di vista proprio di gestione del trattamento dei rifiuti già fanno fatica a crederti poi c'è l'altra forza politica cioè voglio dire ci sono tutte le difficoltà che facilmente tra virgolette con un lungo lavoro di un anno e passa sono riusciti a portare a casa e dicevo poco fa il contrario di portare direttamente in consiglio o emozione che poi arrivi e te la bocciano perché? perché noi hai fatto semplicemente la parte iniziale più importante di spiegare non solo la buona fede ma anche la sensatezza dati alla mano cosa significa portarla a casa che non è solo un mettere il cappello dell'idea politica quindi un vantaggio per tutti il nostro approccio che ci caratterizza sempre l'ultima roba poi lascio alla faccia di introduzione breve è che il generale dei carabinieri della forestale che abbiamo sentito in commissione antimafia rispetto all'indagine conoscitiva per questi benedetti rifiuti che prendono fuoco da soli cioè questo effetto di autocombustione che è terribile ogni tanto quando si imponano troppi i magazzini prendono fuoco da soli in antimafia stiamo approfondendo questo aspetto e il generale una delle tre donne d'Italia che ci ha specificato io ho una battuta perché su dieci domande serie dovevo farne una per sdramatizzare perché sennò avevamo tutti un buon tono abbastanza impegnato e ho detto ma secondo voi lo stile rifiuti zero stile di vita stile di vita in chiave economia circolare quindi in stile rifiuti zero alla faccia di quello che dici noto quello che fai ognuno di noi dovrebbe evitare sempre di fare rifiuti in qualsiasi occasione quindi io gli ho chiesto può impattare può essere una forma di lotta antimafia si è infatti un mezzo ghigno e ha espressamente confermato c'è il verbale della commissione espressamente confermato che è assolutamente vero perché tu togli benzina al motore principale perché poi chiaramente andranno in armi in droga avranno altri business ma in ogni caso se il cittadino valla a spiegare però comunque se il cittadino riesce a capire che non è solo un approccio ambientalista ma è sotto tutti i punti di vista come dicevo prima salutare ma è anche tutti i lamenti delle organizzazioni criminali che esistono che fanno business sui rifiuti se ti può servire o può servire a dire ai cittadini che è un elemento importante da poter tranquillamente avere una pace mentale che è assodato che è così che non è che me l'ha detto il primo appuntato il generale dei carabinieri della forestale cioè ha confermato che non produrre rifiuti può sicuramente agevolare il non trattamento da questa gente perché comunque oggi non solo comunque oggi uno dei campi dove hanno quasi la priorità è il trattamento dei rifiuti la criminalità organizzata dal punto di vista di infiltrazione quindi tanto per dare questo ultimo elemento che quando si dice non si ha la giusta percezione che dici eh no cosa c'entra la mafia però con il fatto che io faccio l'immondizio no non è vero perché se sai che su 90 appalti bene o male riescono il su 100 appalti il 90% riescono a infiltrarsi qualche modo hai comunque un impatto anche in quel senso vabbè mi taccio e lascio la parola a Marco grazie allora buon pomeriggio a tutti grazie per essere venuti io mi chiamo Marco Fais attualmente sono consigliere comunale di Cusano Milanino a fine mandato perché a maggio si concluderà appunto il nostro mandato è durato 5 anni allora mi sposto magari un po' più di così di qua ok perfetto allora perché ehm stiamo presentando appunto questa eh questa cosa che è stata fatta a Cusano Milanino siamo riusciti a eh rendere possibile dalla partendo dalla minoranza come diceva prima Luigi quindi il lavoro fatto da me e da Benedetto Pallotti che è l'altro eh portavoce in consiglio comunale di Cusano oltre che ovviamente al meet up di Cusano Milanino siamo riusciti in minoranza a imporci politicamente e eh creare le linee guida per arrivare a questo obiettivo allora il titolo infatti dice Cusano Milanino verso rifiuti zero verso rifiuti zero perché la tariffa puntuale è solamente un uno dei passi che poi compongono questa strategia come ben sappiamo nella vita gli obiettivi gli obiettivi migliori si raggiungono a piccoli passi complicati costruiti studiati e eh pian piano si può ottenere un risultato eh tendenzialmente eh la mia esposizione si divide in questi questi punti scusate per le slide che sono molto semplici però non era il massimo che ero in grado di fare allora cosa si intende per strategia rifiuti zero con quali azioni e quali strumenti possiamo agire e qua parlo tendenzialmente del consiglio comunale quali sono i punti principali da tenere in considerazione e che risultati posso ottenere con l'applicazione della tariffa puntuale in realtà è un lavoro che è partito anni fa eh personalmente io mi occupo di questa materia mi sono appassionato di questa materia perché non sono un tecnico eh otto anni fa e ho iniziato a informarmi studiare parlare con persone parlare con realtà sono anche andato fino a Capannori tra l'altro anche ingannando mia moglie perché eravamo in vacanza a Lucca e gli ho detto andiamo a fare un giro a Capannori a Bella Cittadina in realtà avevo l'appuntamento con il presidente della partecipanza del comune di Capannori che mi ha appunto spiegando alcune cose abbiamo parlato con i consorzi che si occupavano già di strategia rifiuti zero quindi tariffa puntuale intorno a Milano per esempio se non ricordo male ci ha aiutato molto l'esperienza del Bairate che è un comune a sud Milano e tendenzialmente pian piano abbiamo costruito questa strategia politica che abbiamo poi attuato una volta entrati all'interno del Consiglio Comunale puoi andare avanti per favore allora brevemente lo sappiamo tutti ormai cos'è però è sempre bene ripetono una volta in più cos'è la strategia rifiuti zero strategia rifiuti zero vede tra i suoi maggiori teorizzatori Paul Connett tra i più famosi praticamente è una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica degli stessi considerati non come scarti ma risorse e questo è quello che diceva un po' Luigi prima e poi anche quello che poi ci spiegherà dal punto di vista anche europeo e le un'ora dopo praticamente contro le pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o di scarica perché il nostro obiettivo è questo tendenzialmente il nostro obiettivo è andare pian piano e eliminare l'inceneritore l'inceneritore non puoi chiudere dall'oggi a domani dobbiamo essere concreti pratici però possiamo disincentivare il suo utilizzo attuando queste buone pratiche scusa Luigi allora appunto il nostro primo obiettivo è affamare l'inceneritore riducendo in maniera drastica la produzione di secco pro capite per abitanti del proprio comune e vedremo che a Cusarmini non ce l'abbiamo fatta in maniera abbastanza lampante come lo andremo a vedere l'introduzione della tariffa puntuale al posto del sistema presuntivo e adesso vi spiegherò brevemente perché non conoscesse come è composta la tariffa dei rifiuti che viene poi in gergo chiamata tassa ma in realtà i rifiuti è una tariffa perché paga al 100% va a coprire il 100% della spesa sostenuta da quel dato comune per quel dato servizio che cos'è è un sistema tariffario premiante dove il cittadino potrà tenere in piccola parte un calo sulla tariffa rifiuti di comportarsi in maniera virtuosa io preferisco usare l'approccio non di chi inquina più paga ma chi meno inquina meno paga preferisco guardare dall'altra parte anche perché poi se parlate con i cittadini è anche più dolce come apporto per rapportarsi con loro esatto diciamo che vengono primati anzi che essere puniti assolutamente scusa Luigi allora la tariffa puntuale come si applica e cosa comporta allora si calcola sulla quantità di secco conferito quindi la tariffa puntuale riguarda esclusivamente il rifiuto indifferenziabile e quindi si calcola sulla quantità di sacchetti gettati quindi riempi un sacchetto lo getti quello è il tuo rifiuto conferito quindi non a peso in realtà ci sono altri sistemi che andavano a peso però in realtà erano un po' più antiquati ecco stiamo già parlando di un sistema rodato e migliorato negli anni questi sacchetti vengono cippati con tecnologia RFID approfitto io ho portato un campione se volete far girare questo qua è il sacco blu che è il sacchetto del differenziato che è cippato ovviamente c'è lo stemma di Cusano Milanino prendete un sacchetto in questo caso noi poi vi spiegherò anche perché siamo arrivati a scegliere questo formato che è un formato di 40 litri tutto quello che non è differenziabile viene gettato all'interno di questo sacchetto il sacchetto viene chiuso con i lacci e poi gettato nel proprio locale rifiuti nel condominio se si abita nel condominio oppure sul cielo della strada al giorno del ritiro se si abita in ville o altri tipi di appartamenti agisce sulla parte variabile della tariffa rifiuti allora ecco brevemente la tariffa rifiuti si divide in due parti c'è una parte fissa e una parte variabile la parte fissa va a coprire tutti quei servizi comuni lavaggio delle strade svuotamento cestini pubblici pulizia parchi poi dipende come il proprio comune crea l'appalto però tendenzialmente la parte fissa copre tutto ciò che è comune mentre invece la parte variabile va a toccare la data utenza domestica oppure non domestica cioè un'attività commerciale questa questa cioè se non si fa se non si applica la tariffa puntuale ciò che viene il criterio che viene utilizzato è quello presuntivo che è quello un po' che accennava Luigi prima il metodo presuntivo praticamente calcola un massimale di quantità di rifiuti conferiti e fa pagare al cetrino quella cifra basata su un calcolo veramente aritmetico di media e viene applicato questa parte qua di tariffa la tariffa puntuale invece va un po' più nello specifico e va appunto a creare questo rapporto di premio per chi produce meno rifiuti diciamo punizione per chi ne produce di più che poi stiamo parlando di un reggio molto basso poi approfondiremo magari anche questo aspetto grazie allora qua voglio parlare in realtà che poi anche il il discorso principale perché la tariffa puntuale tante amministrazioni non del 5 stelle in questi anni l'han fatta l'han portata avanti noi non eravamo un'amministrazione del 5 stelle è un'amministrazione che adesso è ancora al governo della città è un'amministrazione del partito democratico cosa abbiamo fatto il partito democratico non ne voleva proprio sapere come tutte le altre forze politiche quando ha degli amministratori locali cerchi di proporre una novità tendenzialmente le persone hanno paura di queste novità hanno paura magari di fare qualche sciocchezza magari di essere attaccati politicamente oppure non capiscono proprio quello che gli stai proponendo perché in molti casi è anche così bisogna anche avere la fortuna di avere a che fare con persone più o meno ragionevoli ho anche aperto un po' la novità devo dire che poi con il lavoro che abbiamo fatto l'apertura politica anche dall'altre parti sia a destra che a sinistra c'è stata infatti è questo che volevo anche principalmente promuovere con quali azioni e quali strumenti possiamo agire la prima cosa assoluta è il coinvolgimento il lavoro deve essere fatto partendo da fuori del municipio il consiglio comunale è un posto importante all'interno dell'aula del consiglio comunale si amministra la città si prendono anche delle decisioni ma non è la città la città è tutto quello che c'è intorno e dentro la città ci sono cittadini ci sono associazioni ci sono realtà delle più variegate ci sono anche forze politiche che non fanno parte del consiglio comunale noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato con tutti abbiamo deciso che per promuovere questo nostro punto a cui tenevamo tantissimo dovevamo parlare con chiunque e abbiamo raccontato quello che volevamo portare avanti quindi abbiamo coinvolto tutte le forze politiche attive sul territorio quindi anche extra consigliari cosa abbiamo fatto? il caso voleva che in quel periodo lì ci fosse la raccolta firme zero waste e allora cosa abbiamo detto? Abbiamo detto a tutti i rappresentanti politici di Cusano Milanino abbiamo detto ragazzi facciamo dei banchetti insieme senza simboli nessun simbolo politico ognuno se li lascia a casa propria facciamo dei banchetti la gente ci vede per strada perché Cusano Milanino è un paese comunque di 20.000 persone quindi tendenzialmente più o meno ci si conosce un po' tutti se non conosci la persona direttamente conosci il parente quindi comunque mostrare in piazza tante facce di tante realtà diverse ha incuriosito il cittadino infatti è stata una delle raccolte firme più partecipate nel nostro comune noi abbiamo coinvolto tutti quanti abbiamo fatto questi banchetti abbiamo raccolto le firme poi le abbiamo presentate regolarmente in questo modo cosa abbiamo fatto? abbiamo sì fatto partecipare tutti ma abbiamo anche in qualche modo legato politicamente l'azione futura di queste forze politiche perché non potevano più negarci il loro appoggio quando avevano fatto una raccolta firme insieme a noi su questo tema perché li avremmo poi tra virgolette impallinati politicamente quindi li abbiamo anche messi un po' alle strette è stato tutto un lavoro molto lungo ma alla fine è venuto essere stati anche fortunati con certe coincidenze ma è venuto tutto bene molto bene qui bisogna coinvolgere i cittadini e le associazioni di promozione specialmente di senso civico ambientale per dire noi a Cusano abbiamo un circolo legambiente che vabbè con tutte le contraddizioni che può avere il circolo legambiente però un circolo legambiente è fatto di persone che tendenzialmente sono operose e da anni portano avanti determinati temi di sensibilità ambientale li abbiamo coinvolti abbiamo coinvolti specialmente a maggior ragione per il semplice fatto che molti di queste persone del legambiente appartevano al mondo di sinistra perché li abbiamo coinvolti li abbiamo coinvolti perché alla fine loro tra l'altro ci hanno dato anche una grandissima mano perché hanno iniziato a girare a parlare anche loro e a portare testimonianze ma poi avevano anche la funzione di essere testimoni perché se ci credevamo un tavolo col PD con la loro esperienza ci avrebbero magari anche fregato ma mettendo a quel tavolo anche persone di legambiente che tendenzialmente erano più della loro parte ma non potevano dire niente contro quello che stavano proponendo avevamo creato dei testimoni quindi il PD non poteva più tirarsi indietro cioè il coinvolgimento serve sì anche a far partecipare tutti quanti ma serve anche a creare un certo controllo tra le varie parti quello che diceva anche una volta Beppe Grillo se illumini l'altro non ruba più o meno è la stessa cosa cioè lo stesso concetto io ho messo lì davanti ci sono altre orecchie non è solo la mia parola è la parola di uno che è più vicino a te ha sentito tutto quindi se succederà qualcosa se tu negherai quello che è stato fatto ne risponderai di quello che stai dicendo poi chi bisogna coinvolgere ovviamente non amministrando noi ma anche perché è giusto che sia così perché stiamo parlando di un intervento strutturale bisogna coinvolgere i membri del consiglio comunale e la maggioranza dell'opposizione scusa ecco agire in consiglio comunale allora piccola parola mi sono dimenticato prima abbiamo costituito un forse l'avevo scritto qua no abbiamo costituito oltre poi alla commissione che adesso vi spiegherò abbiamo costituito anche un forum cittadino sui rifiuti allora forum cittadino dove ovviamente non è che c'era una grandissima partecipazione è che i cittadini facevano appugni per partecipare però qualcuno è venuto sono venuti tanti di lega ambiente e abbiamo iniziato a sviscerare sviscerare idee idee su idee quello che avevamo sentito quello che avevamo letto raccontare quello che ci era stato riferito da persone che operano nel settore e poi abbiamo creato una commissione che in realtà poi andava di pari passo al forum cittadino cioè quello che diciamo al forum cittadino lo portavamo in commissione lo verbalizzavamo abbiamo creato poi uno storico in modo che se fallivamo chi prendeva il posto nostro in futuro poteva riprendere tutto il lavoro fatto allora quindi fa restituire dal consiglio comunale una commissione speciale di igiene urbana le modalità dipendono dal proprio regolamento ogni comune ha il proprio regolamento noi preventivamente avevamo qualche mese prima la revisione del regolamento comunale sapendo di dove fare questa cosa abbiamo infilato alcuni emendamenti per favorire la creazione di questa commissione quindi in realtà come vi dicevo prima era già tutta una cosa molto studiata ci avevamo ragionato moltissimo comunque di fatto il nostro regolamento comunale ci permetteva di creare una commissione nel nostro regolamento intesa come di inchiesta di controllo speciale per la durata di sei mesi dove per anche cortesia istituzionale la presidenza va alla minoranza quindi cosa è successo è successo che la presidenza della commissione l'ho assunta io sono diventato presidente della commissione di igiene urbana con i voti anche del resto del consiglio comunale quindi anche delle altre forze politiche cosa ti permette di essere presidente della commissione di igiene urbana ti permette di dettare i tempi e dettare i tempi in politica è fondamentale dettare i tempi e anche portare avanti un determinato tipo di discorso ovviamente tutti potevano intervenire tutti i consigli tutti i commissari e poi tutto quello che facevamo in commissione lo riportavamo nel forum cittadini e viceversa così potevano anche intervenire quei cittadini che si erano resi partecipi a darci una mano e abbiamo iniziato a produrre idee quindi quello che dicevo prima cercare di ottenere la presidenza perché di solito per cortesia istituzionale va la minoranza poi sempre dipende dal regolamento in modo da poter dettare i tempi e gestire la modalità di lavoro poi cosa succede? cosa è successo? è successo che abbiamo iniziato a metter giù appunto verbali metter giù relazioni ogni ogni mese e mezzo portavamo una relazione in consiglio comunale io come presidente della commissione la leggevo veniva verbalizzata noi abbiamo anche il consiglio in streaming quindi veniva registrata in streaming veniva verbalizzata con i registratori che si usano appunto nei consigli comunali quindi era tutta carta che cantava nel senso nessuno poteva più dire niente e abbiamo creato appunto questo storico quindi presentazione in consiglio comunale delle relazioni scritte della commissione in modo che vengano verbalizzate e scritte gli atti fondamentale questa cosa perché nessuno può tipo dire niente trasformazione della relazione in delibera la relazione veniva discussa veniva ripresentata in commissione veniva ripresentata in consiglio comunale diventava delibera e entrava dentro quindi noi abbiamo iniziato a scrivere delle linee guida perché ovviamente il consiglio comunale e anche per fortuna giustamente non può non fa lui l'appalto ma dà dei direttami da diciamo dipinge il quadro politico di quel dato tema e quindi questo è quello che abbiamo fatto abbiamo scritto delle linee guida dove poi i tecnici del comune non potevano tanto andare fuori cioè gli abbiamo creato i binari e loro poi ci hanno messo il treno e hanno fatto anche un ottimo lavoro devo dire i nostri tecnici avanti per favore ok quindi cosa è successo è successo che abbiamo appunto fatto questo grande lavoro quello che diceva Luigi sul discorso delle emozioni io lo condivido in pieno dopo cinque anni di consiglio comunale mi sono proprio reso conto che tendenzialmente c'è un abuso nell'utilizzo delle emozioni consigliari le emozioni consigliari sono sì uno degli strumenti che è in mano il consigliere comunale ma è uno degli strumenti solo che tendenzialmente magari spesso e volentieri viene utilizzata solo questa forse perché è più semplice forse perché abbiamo imparato così però in realtà l'arco del consiglio comunale ci permette ci dà proprio in mano determinati strumenti che possiamo utilizzare in diversi modi per esempio quello della commissione speciale che in questo caso dove andiamo a lavorare su un caso estremamente pratico quindi stiamo andando a lavorare su una come dicevo prima su un discorso strutturale della vita del municipio fare una mozione politica presentare una mozione in consiglio comunale poi ottenere semplicemente che la maggioranza te la boccia perché non la capisce perché non si vuole prendere l'impegno perché forse non si è reso conto forse non l'hai spiegata bene mentre invece se fai un lavoro come è stato fatto da noi ottieni dei risultati la mozione è giusto utilizzarla per discorsi politici impegni è più una cosa un po' più alleatoria la mozione serve più per temi alleatori non per temi pratici io consiglio sinceramente di utilizzare altri strumenti in consiglio comunale almeno questo è quello che ho imparato dalla mia esperienza e dove abbiamo in alcune cose abbiamo ottenuto sulla mozione abbiamo ottenuto delle cose utilizzando la mozione molte altre abbiamo ottenuto utilizzando la commissione abbiamo fatto anche il bilancio partecipativo in questo modo accusano Milanino sempre dalla minoranza abbiamo fatto anche come dicevo prima la riscrittura del regolamento comunale introducendo strumenti di partecipazione ovviamente purtroppo non essendo noi la maggioranza abbiamo dovuto mediare su alcune cose però comunque tendenzialmente abbiamo tante frecce al nostro arco solo che tendenzialmente vedo sempre che se ne spara solamente una dovremmo imparare a utilizzare tutte allora adesso entriamo un po' più nel merito di quello che è stato fatto sulla tariffa puntuale quali sono i punti principali da tenere in considerazione allora bisogna fare in modo innanzitutto la prima cosa importantissima fare in modo che l'appalto del servizio di raccolta sia a parte rispetto a quello del conferimento negli stabilimenti specifici se facciamo un appalto unico che era una cosa specialmente anni fa utilizzata moltissimo specialmente nei comuni piccoli e medi succede che rischiamo di dare in mano l'appalto a una società che magari ha anche una partecipazione in un inceneritore quindi ti può dire che raccoglie che fa la differenziata ma poi magari quando deve andare a conferire gli conviene bruciarlo e quel sacchetto quel sacco quel quintali che è raccolto finisce in un inceneritore se invece ho faccio un appalto per un'azienda che che fa la raccolta e per ogni settore mi interessa che le aziende non abbiano ovviamente coinvolgimenti particolari in situazioni strane e suddivido i vari tipi di conferimento non è ovviamente la panna a cielo di tutti i mali però probabilmente vado a limitare il rischio che ci siano dei comportamenti diciamo poco virtuosi da parte dell'azienda quindi spacchetto noi tendenzialmente abbiamo fatto otto appalti uno che è quello principale da un milione novecentomila euro per il discorso di raccolta pulizie strade e tutto quello che c'è dentro e poi abbiamo per ogni tipologia di conferimento abbiamo fatto un appalto specifico c'è una società diversa che fa questo servizio e non costa tanto di più non costa tanto di più anzi a volte si rischia che costa di più fare mettere tutto insieme perché tanto uno dice vabbè io ti infilo tutto dentro poi ti metto qualche variante e poi alla fine i prezzi salgo secondo punto importantissimo introdurre sacchetto specifico gratuito per conferimento delle PSA cioè i prodotti assorbenti sanitari per persone riconosciute in continenti e per i bambini fino a tre anni tendenzialmente cosa succede? abbiamo parlato del sacchetto blu che vi ho fatto vedere prima sacchetto blu ovviamente se uno ha un bambino o una persona allettata o incontinente che usa i pannolini e i pannoloni lo riempie prima quindi cosa succede? succede che metto questa persona in difficoltà perché lui non può ottenere una riduzione dei rifiuti perché tendenzialmente i pannolini non è che te li puoi tenere in casa una settimana devi gettare con una certa regolarità quindi cosa succede? succede che abbiamo deciso e abbiamo anche insistito in commissione ma neanche più di tanto devo dire la verità abbiamo quasi convinto tutti di introdurre un sacchetto a carico di tutti i cittadini di Cusominalino viola in questo caso per distinguere al blu dove viene dato gratuitamente a queste persone che hanno questi requisiti e possono utilizzarli ogni volta che ne hanno bisogno li ritirano possono gettare anche uno al giorno come tendenzialmente è con i prodotti assorbenti sanitari o anche uno nei due e questo costo viene suddiviso tra tutti perché non era corretto riversarlo solamente su chi aveva in casa il bambino oppure l'anziano oppure l'allettato quindi questa cosa è fondamentale faccio girare anche questo se volete questo qua è un sacchetto sempre col chip sempre col chip con però che non va diciamo ad aumentare la tariffa della data famiglia perché è suddiviso da tutti poi un'altra cosa perché vi sto facendo anche girare i sacchetti perché un'altra cosa importante è il sacco cippato è meglio se con capienza di 40 litri per utenze domestiche 130 litri in realtà 120 ho sbagliato a scrivere per utenze commerciali aziendali io sinceramente pago la tariffa dei rifiuti su tutte e due io ho un'attività commerciale e abito a Cusano Milanino quindi tendenzialmente ho tutti i due tipi di sacchetti quello grande purtroppo mi sono dimenticato di portarlo praticamente noi abbiamo cercato di trovare questo formato poi in realtà ognuno in base all'esigenza del proprio territorio capirà qual è meglio perché è ovvio che se parliamo di tutte villette con giardino un paese con tutte villette con giardino puoi mettere anche un sacco da 130 litri per l'utenza domestica tanto uno se lo tiene in giardino se uno invece ha un paese sviluppato in condomini devi cercare di ridurre i sacchi perché il chip il chip allora si è staccato per magia no probabilmente è difettato adesso perché il chip come mai non c'è quello non è cippato si è questo qua esatto il chip ecco questo qua l'avete visto eccolo il chip è su quello blu scusate scusate no no il viola l'ho sbagliato io non è cippato viene registrato ho sbagliato effettivamente perché inizialmente doveva essere cippato poi io il sacco viola non ce l'ho perché non ho bambini e adesso l'ho chiesto in prestito a Luigi che abita nel mio stesso comune però sinceramente no effettivamente è vero dovevamo cipparlo poi alla fine è stato deciso di andargli a prendere in ufficio ecologia e viene registrata la persona che ha preso quel determinato rotolo di sacchetti e tendenzialmente viene sempre comunque registrato quindi ecco sul discorso delle dimensioni bisogna ragionare però ognuno sa che è formato utilizzare in base al proprio comune però è importante ragionare sulla capacità perché i cittadini poi tendenzialmente innanzitutto devi rendere la vita un po' più facile perché se ovviamente vai a creare un problema al cittadino il cittadino ti verrà contro se invece cerchi di andare incontro ad ogni esigenza pratica il cittadino magari vedrà un po' meglio la questione scusa vai avanti per favore poi alcuni dati la fornitura del software per il conteggio della tariffa puntuale ha un costo almeno per quanto riguarda abbiamo speso circa 200 mila euro ma 200 mila euro li abbiamo tendenzialmente ammortizzati spendendo circa 280 mila euro in meno a diapalto quindi tendenzialmente è stato quasi gratuito diciamo è consigliabile quindi no no una volta è consigliabile quindi di cercare di fare poi hai dei costi probabilmente di aggiornamento del software immagino adesso non sono un tecnico però immagino però San Parano al massimo 10 mila euro all'anno è consigliabile quindi cercare di fare economia e tagliare eventuali sprechi e servizi superflui ad esempio noi ci siamo resi conto che avevamo il doppio servizio di raccolta nei condomini di plastica e vetro plastica e vetro tendenzialmente specialmente se è un locale rifiuti da poi anche ritirare una volta alla settimana questa cosa ci ha fatto risparmiare decine e decine di migliaia di euro perché su un territorio di 20 mila persone noi abbiamo condomini anche di 13 di 13 piani di 15 piani e a Cusa Milano ha una densità abitativa molto alta siamo 3 mila abitanti per chilometro quadrato più o meno troviamo uno sopra l'altro e quindi fare abbiamo pensato appunto che il doppio ritiro era proprio un costo superfluo ed effettivamente ormai sono passati due anni non abbiamo nessun tipo di problema avanti allora che risultati posso ottenere adesso sono quasi arrivato alla fine smetterò di tediarvi allora scusa che risultati posso ottenere con l'introduzione della tarifa puntuale qua veniamo un po' anche al discorso pratico quello che è successo finalmente a novembre del 2018 abbiamo approvato il primo piano tariffario dei rifiuti con la tarifa puntuale e allora ho detto dato che abbiamo i dati i dati finalmente erano positivi andiamo a raccontare un po' in giro quello che è stato fatto indifferenziato indifferenziato pro capite allora questi sono dati fenomenali io sono veramente contento anche perché parliamo del primo anno del 2017 quindi pre tarifa puntuale le tonnellate di rifiuto indifferenziato erano 1697 che equivalgono 85 kg di secco pro capite per cittadino in un solo anno le tonnellate sono diventate 1375 quindi 69 kg di secco pro capite per cittadino abbiamo risparmiato 16 kg a testa di indifferenziato ed è veramente tante persone specialmente allora all'inizio questo ve la racconto perché penso di non aver mai ricevuto così tanti insulti in vita mia mentre stavo lavorando a questa commissione gente che ogni tanto mi scrive un messaggio su facebook vai a quel paese vai di qua vai di su vai di giù mi vedono per strada ah ma è finito di rompere le bale tutte queste cose qua ho ricevuto diciamo appunto parecchi insulti mai minacce però mi mandavano a cagare volentieri ecco era proprio uno sport nazionale ai primi giorni quelle stesse persone quelle stesse persone dopo 6, 7, 8 mesi introduzione di questa cosa mi hanno detto ah ma sai che mi sono reso conto che effettivamente facevo tanto secco sai che sono riuscito a fare un sacchetto siamo in 4 facciamo un sacchetto ogni 15 giorni e prima ne buttavo uno ogni 2 cioè anche io personalmente io sono in 2 io e le mie moglie io tendenzialmente già facevo una raccolta differenziata abbastanza spinta a casa mia però mi sono reso conto che riesco a fare un sacchetto blu da 40 litri quello che ho passato in 30 giorni senza nessun problema mi sono comprato un armadietto di plastica ce lo metto dentro metto prima un sacchetto della spesa lo divido in 2 lo faccio un po' ogni tanto ogni 15 giorni lo verso dentro il sacco blu e poi al trentesimo giorno circa poi dipende dai periodi vado a buttare una mia stazione di rifiuti quindi praticamente siamo riusciti a risparmiare se pensate a città anche un poco più grandi perché io mi rendo conto per esempio che una realtà come Milano ne deve fare un po' di strada perché giustamente però oltre a Milano stiamo parlando intorno a Milano ci sono tantissimi comuni di qualche decina di migliaia di persone e questi comuni tutti possono assolutamente con estrema facilità ottenere risultati meravigliosi ma questa cosa comporta anche dei risparmi vai avanti allora l'indifferenziata nel 2017 la percentuale di indifferenziata era del 21,99% nel 2018 17,49% scusa avanti nel 2017 la percentuale di differenziata ok quindi prima stiamo parlando della percentuale quindi più basso il dato meglio è in questo caso è il contrario nel 2017 la percentuale differenziata 78% nel 2018 82,51% si è vero partivamo già da una situazione molto alta era stato fatto un lavoro già bene negli anni scorsi però poi Cusano Milano si è adagiata sugli allori e noi gli abbiamo dato un po' un po' di stimoli ogni tanto bisogna un po' ribaltare tutto e cercare di creare stimoli nuovi nel 2018 siamo arrivati a 82,5% abbiamo fatto un più 4,5% e tra l'altro adesso non ho messo tutti i dati ovviamente perché se lo diventavo lunghissima nel 2016 arrivavamo nel eravamo al 66% abbiamo fatto questo salto introducendo la sperimentazione nel 2017 stavamo sperimentando i sacchi blu non avevano ancora effetto sulla tariffa personale però erano già in giro la gente li stava già utilizzando in un solo anno abbiamo fatto più 12-14% e poi con l'introduzione della tariffa abbiamo fatto un ulteriore 4,5% siamo arrivati a questa cifra che è abbastanza rincorante andiamo avanti per favore allora i costi di servizio e qua arriviamo anche alla nota dolente allora uno dei costi principali di un appalto dei rifiuti è legato alla gestione del secco il secco è un costo i mercuriali possono essere delle risorse come diceva prima Luigi un guadagno se ben gestiti poi è vero che cambia in base anche al mercato dei consorsi perché per esempio abbiamo fatto un lavoro sulla carta che era conveniente quando l'abbiamo fatto poi il prezzo della carta è crollato e adesso possiamo guadagnare un po' meno rispetto alle previsioni però lì va anche un po' a fortuna un po' come giocare in borsa uno fa un investimento poi il giorno dopo cade e lì non ci puoi fare niente e speriamo che polistirolo ah ok speriamo speriamo allora diminuisce il costo del servizio allora diminuisce il secco pro capite aumenta la differenziata e diminuisce quindi il costo del servizio cosa che non ho detto prima ma molti di voi lo sapranno già per legge decreto Ronchi del 1999 impone che i comuni non possono lucrare sulla gestione dei rifiuti devono chiedere esattamente il 100% del costo sostenuto quindi cosa vuol dire che più costa l'appalto più costa la tassa per i cittadini meno costa l'appalto e più diminuisce perché è lì che andiamo ad agire questi sono alcuni costi che avevamo 2016 quasi 2 milioni e 700 mila euro arrivando al 2019 perché abbiamo approvato la previsione del 2019 a novembre abbiamo risparmiato quasi 200 mila euro che sono i costi del software tendenzialmente cioè abbiamo pagato il sotere abbiamo pure risparmiato 200 mila euro quindi praticamente abbiamo guadagnato tra una cosa e l'altra 400 perché abbiamo uno strumento in più in comune di nostra proprietà e abbiamo anche diminuito tutto quanto quindi questa cosa cosa comporta risparmio dei latari per cittadini imprese i cittadini ovviamente pagando una quota in proporzione minore avranno un risparmio minore non si parla di cifre astronomiche però comunque se uno riesce a risparmiare quei 10-15 euro l'anno tanto di guadagnato le imprese invece avranno un guadagno una percentuale di risparmio un po' maggiore avanti abbiamo finito a posto abbiamo finito e adesso per concludere praticamente quindi il lavoro è tendenzialmente questo cercare di la testimonianza che volevo portare oltre che un attimo approfittare per spiegare a chi per chi non la conoscesse la tariffa puntuale ma è anche il lavoro politico il lavoro politico è fondamentale dobbiamo fare questo piccolo sforzo di cercare di veramente sfruttare tutto quello che abbiamo a disposizione io ogni tanto per esempio faccio una piccola polemica ma la chiudo ovviamente come la ho visto girare un testo promosso da non so chi anche dal consiglio regionale dal nostro gruppo regionale sulla tariffa puntuale ecco io non sono molto d'accordo nel senso quel testo lì può essere utilizzato come primo passo ma non aspettiamoci che presentando quella mozione il nostro compito sia finito quella mozione possiamo anche non presentarla possiamo farlo per iniziare a attirare attenzione magari dei media magari può servire a livello mediatico faccio la mozione faccio un po' di cinema nel consiglio comunale il giorno dopo il giornale locale scrive un articolo il cittadino legge allora lì sì però il lavoro non è presentare la mozione il lavoro è fare tutto questo discorso politico coinvolgere creare una commissione e lavorare informarsi studiare approfondire e portare avanti poi c'è la fortuna ripeto noi abbiamo avuto la fortuna di trovare persone che hanno capito devo ammettere devo dire la verità sono persone le altre forze politiche dopo un po' che li rompavamo le scatole con questa storia qua a un certo punto ha detto vabbè interessante anche io ho letto una notizia effettivamente quindi abbiamo avuto questa fortuna c'è chi non ce l'ha però se ci rimettiamo a fare il nostro compitino e sentirci a posto non miglioreremo niente cerchiamo di appunto andare più nel profondo andare più essere un po' andare più in tecol cercare di essere un po' più aggressivi politicamente parlando ovviamente politicamente parlando un po' più concreti vi ringrazio grazie adesso sì subito dopo che finisce l'intervento di Eleonora passiamo sicuramente le domande perché così appunto riusciamo a chiarire qualsiasi dubbio adesso passo la parola alla nostra perla europea perché se notate senza essere minimamente senza essere preventivato lei si porta sempre la sua bottiglietta in chiave stile di vita rifiutti zero perché appunto se lo dici lo devi fare anche non solo pretendolo dagli altri grazie grazie Luigi e grazie Marco per questa ottima testimonianza che ci dà speranza in prima battuta perché ci dice che portare queste nostre idee e la battaglia rifiutizzero all'interno delle istituzioni è possibile e si può fare e riusciamo anche quando anche siamo all'opposizione con grande coraggio con tanta energia con tanta voglia riusciamo anche ad ottenere questi risultati importanti io faccio invece un breve intervento su quella che è la situazione europea per aggiornarvi un pochino qualcuno di voi magari è già sicuramente informato rispetto alle novità che arrivano dall'Europa ma facciamo un breve ripasso dunque voi avrete sentito parlare ovviamente del fantastico e fantomatico pacchetto economia circolare un pacchetto che ormai è stato adottato nel 2017 ma che nella sua prima proposta da parte della commissione europea e questo ci tengo a ricordarlo era stato proposto inizialmente nel 2014 nel titolo sembrava scritto da un grillino sembrava scritto da uno di noi perché nel titolo c'era scritto un percorso verso rifiuti zero pacchetto economia circolare un percorso verso rifiuti zero bellissimo bellissimo che cosa è successo però dopo che la nuova commissione europea si è insediata e quindi appunto si parla del 2014 questo era il lavoro del precedente commissario all'ambiente Potocnik che aveva lavorato su questo nuovo testo su questa nuova proposta che cosa è successo il presidente Juncker ha deciso di ritirare una serie di proposte legislative che erano già nella pipeline quindi già in arrivo per rivederle guarda caso e quello che è successo per questo particolare pacchetto è stata una revisione a ribasso ovviamente di quella che era l'ambizione iniziale della proposta stessa e quindi purtroppo nel titolo è sparito il riferimento preciso e puntuale a rifiuti zero ma comunque abbiamo oggi una legislazione europea sicuramente tra le migliori al mondo che comunque ci consente di fare oggi dei ragionamenti molto più proiettati verso il futuro per un'economia che sia veramente rivolta appunto alla circolarità e quindi al ricreare valore dalla materia e quindi appunto dai rifiuti che non sono rifiuti ma sono risorse e quindi detto questo per darvi un po' il quadro politico della situazione quindi della commissione europea con cui abbiamo avuto a che fare in questa ultima legislatura vi dà un po' la dimensione di quanto sia stato comunque complicato cercare di ottenere dei testi che siano veramente ambiziosi facendo una prima di parlare in maniera approfondita di questo pacchetto del pacchetto economia circolare una breve fotografia dell'Europa perché l'Europa noi sappiamo un po' quello che succede in casa nostra quindi quanto conferiamo in discarica quanto bruciamo negli inceneritori quanto riusciamo a riciclare e quelli che sono i grandi sforzi per trasformare appunto la nostra economia italiana verso appunto un uso migliore delle risorse ma cosa fanno gli altri paesi dell'Unione Europea perché le differenze sono tante sono a volte anche veramente abissali innanzitutto pensiamo che mediamente il cittadino europeo produce una quantitativa di rifiuti di 500 kg all'anno pro capite quindi ognuno di noi mediamente produce questa quantità di rifiuti totali quindi considerando tutto non soltanto appunto il secco di cui parlavamo prima che appunto il residuo questa quantità varia molto vi dicevo da stato membro a stato membro vi sono alcuni stati membri in cui la produzione pro capite è più alta e altri dove è più bassa e l'esempio che vi voglio portare che un po' dà l'idea anche dei problemi che ci troviamo ad affrontare anche a livello europeo è quello della Danimarca perché la Danimarca è un paese che normalmente nella nostra immaginario comune un paese green un paese verde un paese votato alla sostenibilità ambientale un paese che è molto avanti nelle politiche ambientali invece la Danimarca in Danimarca si produce il più alto quantitativo pro capite di rifiuti 780 chili all'anno quindi molto di più rispetto alla media europea e la particolarità è anche che la Danimarca non conferisce niente in discarica e questo potrebbe essere una cosa molto buona ricicla qualcosina ma brucia la gran parte dei suoi rifiuti e questo non è esattamente un esempio virtuoso in realtà però e qui per darvi un altro elemento interessante di valutazione di come l'Europa andava a giudicare i paesi membri i stati membri nel 2012 la commissione europea fece una classifica dei paesi più virtuosi e la Danimarca era fra i primi più virtuosi e insomma non è che questa 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 condizione potesse dal nostro punto di vista essere insomma accettabile perché un paese che produce una così grande quantità di rifiuti e poi brucia tutto forse evidentemente non è esattamente la strada maestra da seguire e vi sono poi altri stati membri pensiamo alla Polonia la Romania dove il quantitativo prodotto è molto più basso e dove però la gran parte finisce in discarica quindi capite bene anche una fotografia molto diversa molto frastagliata tra i paesi del nord Europa in particolare e quelli dell'est Europa e hanno veramente delle delle strategie di gestione dei rifiuti molto diverse ma questa Europa questa Unione Europea deve e sta imboccando fortunatamente e ha imboccato nel corso di questi ultimi anni con più vigore con più forza la strada appunto dell'economia circolare e questo perché perché siamo di fronte ormai a delle sfide e dei cambiamenti in atto che sono di portata enorme e che vanno quindi affrontati l'uso corretto efficiente delle risorse è ormai una priorità non fosse altro che per i temi ambientali ovviamente per l'impatto ambientale che una gestione scorretta dei rifiuti ha ma anche per quelli che sono ragioni di tipo occupazionali e poi vedremo quanto è come dire una vera e propria opportunità investire in altre pratiche altri modelli di gestione dei rifiuti che abbandonano la discarica e l'incenerimento ma anche per un motivo molto semplice l'Unione Europea importa la gran parte delle materie prime di cui ha bisogno di cui poi le nostre industrie il nostro tessuto produttivo ha bisogno importiamo oltre il 60% di quello che ci serve e questo dà un po' l'idea di quanto sia quindi oggi importante riuscire a mantenere le risorse sul nostro territorio invece che magari appunto spedirle dall'altra parte del mondo come in Cina dove oggi appunto hanno peraltro chiuso le importazioni di certi tipi di rifiuti ma in generale l'importanza di mantenere all'interno dei confini dell'Unione queste risorse perché appunto non sono rifiuti ma sono risorse quindi devono essere valorizzate e riutilizzate nella maniera più corretta e quindi per fare un pochino di anche qui velocemente di storia già nel 2008 la Commissione Europea aveva introdotto una legislazione piuttosto ampia per il settore della gestione dei rifiuti e introdusse nel 2008 la famosa gerarchia dei rifiuti quella piramide che molti di voi noi che siamo insomma grillini di questi temi di rifiuti ci occupiamo da diverso tempo conosciamo ormai bene questa famosa piramide gerarchia dei rifiuti che vede in prima battuta gli sforzi verso una prevenzione della creazione stessa del rifiuto e quindi meno rifiuti facciamo meglio è e poi a scalare la preparazione al riuso al riutilizzo il riciclo e poi il recupero e qui attenzione recupero si intende sia il recupero di materia ma soprattutto il recupero energetico e infine solo come ultimo step la discarica questa è per l'Unione Europea per l'Europa è stato per molto tempo ed è in realtà tuttora oggi la strada da seguire quindi insomma i principi guida che dovrebbero orientare appunto le politiche per la gestione dei rifiuti e che cosa è successo che però come vi dicevo con il pacchetto economia circolare non si è aggiornata la normativa che quindi risaleva al 2008 quindi nuova proposta 2014 poi in realtà adottata e completata definita nel 2017 che cosa è cambiato l'impianto rimane lo stesso la gerarchia dei rifiuti non è stata cambiata però sono stati introdotti dei nuovi obiettivi l'Europa funziona un po' così ci dà spesso degli obiettivi da raggiungere è un po' questo il modo anche con cui l'Europa insomma funziona brevemente esistono direttive regolamenti i regolamenti sono direttamente applicabili e si devono recepire in maniera pressoché automatica mentre le direttive sono delle vere e proprie indicazioni con degli obiettivi a tendere verso il futuro e infatti l'Europa lavora con questa lungimiranza ci dà degli obiettivi da raggiungere normalmente negli anni a venire quindi 2025 2030 2035 queste sono oggi le date con cui ci confrontiamo a livello europeo quindi da qui parentesi quanto è importante seguire cosa viene deciso a livello europeo perché poi quell'obiettivo dobbiamo raggiungerlo e dobbiamo raggiungerlo nei migliori dei modi e insomma sperare che il nostro paese sia in grado di farlo senza particolari ostacoli quindi per molto brevemente per per quanto riguarda il nuovo pacchetto economia circolare dall'Europa arrivano nuovi obiettivi da raggiungere in particolare appunto per il recupero di materia però finalmente si parla di recupero di materia e l'Europa ci chiede di recuperare il 60% della materia a livello appunto europeo ecco scusatemi ho fatto una piccola devo fare una precisazione importante perché così sembra che il 60% di materia sia di tutto ciò che viene prodotto a livello come rifiuto in realtà e qui l'altra nota dolente il pacchetto economia circolare si riferisce solo ed esclusivamente ai rifiuti urbani questo significa che ci stiamo riferendo a solamente il 10% di tutti i rifiuti prodotti nell'Unione Europea capite bene che è un po' insomma la montagna ha partorito il topolino perché in realtà ci stiamo riferendo quindi soltanto a un certo tipo di rifiuti rifiuti solidi urbani mentre ancora molto moltissimo c'è da fare per tutte le altre grandi categorie penso appunto ai rifiuti industriali rifiuti del settore delle costruzioni rifiuti minerari quindi insomma abbiamo ancora moltissimo da fare per trasformare veramente la nostra economia in un'economia circolare ciò non di meno insomma il settore dei rifiuti urbani è un qualche cosa di pressante di urgente quindi da gestire nella maniera più corretta quindi il 60% vi dicevo dei rifiuti deve essere recuperato entro il 2035 e il 70% di tutti gli imballaggi ci sono obiettivi specifici per legno plastica metalli con appunto obiettivi specifici ma in generale il 70% degli imballaggi entro il 2030 deve essere recuperato e in più una cosa viene introdotta voi direte finalmente la raccolta dell'organico diventa obbligatoria a partire dal 2023 questo perché Milano che è peraltro una città che storicamente ha precorso i tempi perché è stata ha introdotto una raccolta dell'organico in tempi insomma anche non sospetti e noi abbiamo sempre pensato insomma di essere un po' il fanellino di coda su questi temi anche in Europa beh in Belgio l'hanno introdotta quest'anno cioè io a Bruxelles ho iniziato da quest'anno per quei quattro giorni che sono a Bruxelles a dividere anche l'organico perché finalmente hanno introdotto la raccolta dell'organico quindi anche in questo senso vi faccio capire quanto è stato difficile riuscire ad arrivare a questa data 2023 come data per la raccolta obbligatoria separata dell'organico in tutta l'Unione Europea il Parlamento Europeo nella negoziazione su questo pacchetto aveva tentato di chiedere da subito l'introduzione di questa insomma di questo obbligo non c'è stato verso il Consiglio che sono appunto gli stati membri nel trovare l'accordo hanno ovviamente hanno acquato il tutto e hanno posticipato quanto più possibile e quindi ora ci troveremo comunque con un obbligo al 2023 cos'altro dire è importante dire che in questo pacchetto economia circolare si fa comunque dei riferimenti chiari ha la responsabilità del produttore perché vengono inserite dei criteri per dire insomma tu produttore che produci quel determinato prodotto devi essere anche responsabile per il suo smaltimento e per il suo fine vita meglio quindi l'importanza di parlare dell'intero ciclo di vita dei prodotti è un qualche cosa che è inserita nella nuova normativa e quindi in questo senso quanto è importante andare a intervenire nella fase progettuale la progettazione quindi il design dei prodotti che utilizziamo deve essere fatto nella maniera da ottimizzare al meglio quindi di ridurre la materia stessa che viene utilizzata e i prodotti che vengono realizzati oggi dovrebbero essere disassemblabili smontabili aggiornabili riparabili esiste anche una campagna molto interessante che è stata lanciata nelle settimane scorse che chiede proprio il diritto alla riparabilità dovrebbe essere un diritto di tutti noi cittadini europei di poter riparare gli oggetti che acquistiamo purtroppo oggi questo non è un diritto che non ci viene garantito perché molto spesso anche qui adesso non voglio fare pubblicità però questi maledetti aggeggi che utilizziamo ormai sono pensati proprio per durare poco e per essere cambiati velocemente e questo il concetto dell'obsolescenza programmata è un qualche cosa che anche qui con grande difficoltà si è riuscito in parte ad attaccare ad intervenire a livello europeo per poter dire finalmente su alcuni prodotti penso agli elettrodomestici quelli soprattutto collegati all'energia elettrica dove lì ci sono anche delle classi energetiche quindi insomma delle disposizioni chiare anche per la riparabilità ma su molti altri prodotti ancora non c'è nulla e quindi questo è un buco nero che ancora dovrebbe essere affrontato a livello anche europeo vado veloce concludendo dicendovi che le altre novità in questo nell'ambito diciamo dell'economia circolare quindi della produzione di rifiuti è arrivata quest'anno alla fine dell'anno scorso in realtà con la nuova direttiva sulla plastica monouso la single use plastic è una direttiva importante perché introduce dei divieti a partire dal 2021 non potremo più usare una serie di prodotti lo ricordava prima Max piatti bicchieri di plastica i bicchierini per il caffè delle macchinette insomma tutta una serie di prodotti che dovranno essere verranno vietati e banditi e questo è anche qui non vi dico è stato molto difficile riuscire ad arrivare a questo perché la la resistenza anche da parte di un certo mondo industriale che peraltro è anche italiano per carità perché molte industrie non sapete quanti hanno scritto nella zona di Varese del Comasco nella zona molti lombardi ma anche del centro Italia aziende che dicevano non votate questa cosa perché per noi vuol dire la chiusura è una è il solito momento difficilissimo che un decisore politico deve avere la capacità però di affrontare e capire che siamo di fronte a delle sfide talmente enormi che la trasformazione delle produzioni che oggi utilizzano un certo tipo di materiale che purtroppo abbiamo visto fa male all'ambiente devono essere trasformate e quindi insomma l'introduzione di questi divieti arriveranno a partire al 2021 oltre a una serie di altri obiettivi di riduzione penso alle bottiglie di plastica ci saranno degli obiettivi di riduzione anche per per le bottiglie di plastica ad esempio chiudo semplicemente dicendo che a livello europeo come quindi vi chiederete percepito e come viene considerata la pratica dell'incenerimento perché forse questa è una domanda che spesso torna e giustamente viene posta perché dopo tutto questo discorso avrete capito che l'Europa consente ancora la pratica dell'incenerimento perché fa parte della gerarchia dei rifiuti di cui vi parlavo prima è vero anche però che dice sempre di più in maniera sempre più forte e chiara che è una pratica che deve essere lentamente abbandonata in favore di altre quindi della prevenzione dei rifiuti e dell'efficientamento in generale dell'uso delle risorse e del recupero e riciclo della materia ma nonostante appunto la pratica dell'incenerimento rimane ancora come un'opzione che cosa è un ottimo passo avanti che non è nulla di vincolante né quindi di 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 legislativo ma è un indirizzo nel 2017 a gennaio 2017 la commissione europea ha fatto una comunicazione che appunto è una comunicazione quindi una linea guida in cui dice però che gli stati membri che utilizzano fondi europei o finanziamenti della BEI non devono utilizzarli per finanziare progetti e impianti che bruciano rifiuti o per conferimento in discarica per la prima volta quindi c'è un segnale chiaro da parte dell'Europa che sebbene non è vincolante comunque dà la strada da seguire anche per insomma gli stati membri e peraltro in questa comunicazione che è molto interessante c'è una 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 come dire uno spot un un faro sulla situazione dei vari stati membri e l'Italia viene considerata tra quei paesi con una sovraccapacità di incenerimento e questo è importante perché noi che siamo lombardi lo sappiamo bene che siamo in sovraccapacità di incenerimento perché abbiamo troppi inceneritori ne abbiamo veramente troppi forse poteva essere un punto di domanda nel resto del paese ma la commissione europea ci inserisce tra quei paesi con una sovraccapacità di incenerimento quindi questo significa che non abbiamo bisogno di nuovi impianti e che quelli che abbiamo dobbiamo iniziare a chiuderli perché fanno oltre che essere appunto controproducenti fanno anche molto male alla nostra salute e chiudo dicendo e chiudo dicendo una delle una delle dei dei dati che mi piace sempre ricordare parlando di questo tema è uno studio dell'agenzia ambientale statunitense che dà dei numeri che secondo me sono strabilianti e sono bellissimi che io mi sono tatuata in fronte e ripeto ogni volta che ho l'occasione perché l'agenzia statunitense dell'ambiente cosa ha calcolato che per 10.000 tonnellate di rifiuti si creano un posto di lavoro nell'incenerimento sei posti di lavoro nel conferimento in discarica 36 in un impianto di riciclo e 296 posti di lavoro in tutta la filiera del recupero riuso di un bene di un prodotto quindi anche qui mi sembra chiarissima ed evidente qual è la strada da seguire non è certo quello di mettere in discarica i rifiuti o di bruciarli ma utilizzarli in un'altra maniera per darle nuovo valore io ho concluso se ci sono domande siamo qua grazie 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 allora io mi sono segnata le varie cose leggendo innanzitutto volevo capire come risolve il problema per esempio i materiali misti quella bottiglia lì come la cioè ci sono dei materiali che tu non riesci a capire dove devi buttare perché sono di 3-4 materiali diversi cioè quella bottiglia la butto nel vetro ma con tutto il ferro con la gomma con la plastica cioè non sai come smaltirla non sai come sganciare cioè esatto 4 ok ma questa tanti materiali tanti materiali c'è c'è questo problema poi un'altra cosa la cosa secondo me fondamentale su cui battere è che la gente è pigra quindi tu praticamente dici ma sì ma che fa ma butto lì chi se ne frega com'è che si riesce a smuovere appunto quando la gente si sente toccare il portafoglio allora si smuove e ci sono dei paesi dove ma anche una volta esisteva che tu per esempio portavi la bottiglia il vuoto e ti davano i soldi il vuoto a rendere anche ho visto in certi supermercati del nord Europa che butti le bottiglie di plastica e guadagni diciamo dei soldi per fare la spesa se si incentivasse diciamo tutta questa una serie di cose per cui la persona invece che buttare la bottiglietta per strada per terra sa che quella è una monetina e la riutilizza come tale cioè sarebbe un incremento a non buttare neanche per strada tutto questo materiale poi riguardo gli inceneritori di cui avevi parlato hai detto che nel tuo comune è stato facile convincere cioè vabbè era comunque una cosa di buon senso alla fine tu hai detto hanno capito ecco ora però immagina in un comune che ne so io sono della zona di Napoli immagina un comune di 20.000 abitanti della periferia di Napoli dove c'è la camorra che ha interessi interessi a costruire un'incenitura ha interessi a far fallire questo tipo di cosa quindi tu dici a te hanno capito ma evidentemente non c'era nessuno che aveva interessi in questo tipo di cosa perché bisogna stare attenti a questo cioè non è tanto la bontà dell'idea ma che ci siano appunto degli interessi sotto che ci hanno da guadagnare sul fallimento della tua idea quindi questa è una cosa su cui bisogna e poi il discorso della riparabilità il discorso della riparabilità se viene l'idraulico a casa mia e dice guardi questo qui se glielo riparo costa 90 glielo metto nuovo costa 100 io sono la prima e dico ok lo metta nuovo cioè quindi secondo me fino a un certo punto vale il discorso della riparabilità cioè più che altro fare in modo che le cose durino ma non è l'interesse della società che porta avanti il consumismo dove la lavatrice una volta era programmata per durare 20 anni adesso è programmata per durare 3-4 anni perché poi la devi cambiare ti costa di meno però non ti dura più niente quindi diciamo è proprio tutto il sistema credo che su questa cosa non si possa affrontare ecco grazie grazie Luigi e intanto volevo ringraziare Marco perché la semplicità nel dire nel fare le cose e anche vuol dire lucidità nella testa cose semplici dette tranquillamente fanno capire bene il problema e avevo da fare una domanda di natura più tecnica l'unica citazione sui costi della messa in opera di questi principi che voi avete portato avanti nel vostro comune è stato questo software 200.000 euro allora a me piacerebbe sapere poi non è necessario magari che mi rispondi qua perché è una cosa intanto quanto costa qual è il costo di esercizio per mantenere in piedi questo tipo di di impianto perché adesso io mi sono immaginato che cosa avete dovuto fare ci vuole un database di tutti i cittadini bisognerà linkare l'RFID ci vorrà qualcuno che diciamo tiene un cittadino prende vai in un altro comune e arriva uno nuovo c'è tutto un problema che poi si traduce in costo uomo quindi in costo di esercizio nel fare questa cosa e poi non è parlato di hardware a meno che in quei 200.000 euro ci sia dentro anche dell'hardware perché l'RFID sappiamo che è uno strumento che per esempio negli Stati Uniti d'America Walmart lo usa già da 15 o 20 anni anche sui beni di largo consumo quindi oggi anche in Italia costa pochissimo e si arriva anche a usare per delle cose fino a un po' di anni fa si usava non so in certi mercati un po' di nicchia che avevano dei forti margini di contribuzione adesso si incomincia a diffondere un po' da tutte le parti però io ero interessato proprio mi sono messo dalla parte di chi deve mettere in piedi un sistema di questo genere ora deve incominciare a dire va bene tanto devo avere dei dati i famosi 40 litri o 130 litri nasceranno da qualche parte poi devo creare un database e quindi devo avere probabilmente in questo caso un software con un database relazionale devo avere qualcuno che ho la certezza che lavori bene nel fare questi accoppiamenti fra i singoli utenti devo avere un hardware quindi dei portali per far passare attraverso questi portali stessi in il mio sacchetto di modo che in automatico venga riconosciuto dove sono chi li ha forniti quanti sono ecco ero proprio mi sono messo nell'ottica di dire adesso lo faccio non è che posso farlo perché non ho però ecco mi sono messo dalla parte di chi non so cito per esempio io però io faccio parte del comitato intercomunale Silla 2 sono i cinque comuni che stanno attorno all'inceneritore che abbiamo a Milano per chi non non lo sapesse ma penso che lo sappiate ecco però è uno dei peggiori comuni che fa raccolta differenziata ho mandato a te Leonore e anche a te Luigi proprio pochi minuti fa gli ultimi dati ARPA probabilmente sono quelli a cui un po' ti riferisci ecco però è attorno al 42 43% che è una cosa disastrosa mentre gli altri comuni Cornaredo Rò Settimo sono già oltre il 70 in alcuni casi vicino all'80 allora mi sono per esempio però avrà le elezioni da qui a pochi mesi mi piacerebbe poter anche avere quella minimo di competenza per poter dire guardate si fa così perché poi nel concreto tenere in piedi un discorso sull'economia circolare e sulla tariffa puntuale non è complicato diventa complicato quando devi incominciare a dire adesso devo fare così poi devo fare così poi devo chiamare questa impresa che mi fornisce queste robe qui poi devo fare ecco ho finito piacerebbe avere qualche chiarimento arrivo buonasera io ho pensato fino a mezz'ora fa che i vecchi partiti avevano reso il nostro paese il medioevo del mondo ma adesso comincio a pensare che sia l'Europa però il medioevo del mondo perché non si può trasportare al 2035 una cosa così in Italia noi siamo grandi invece perché abbiamo l'associazione dei comuni virtuosi li conoscete? ecco loro fanno raccolta differenziata da anni non danno l'appalto alla CEM o a San Galli la fanno loro a parte quello per il secco il primo comune virtuoso e mi spiace che il sindaco sia già morto solo per il cartone incassava due milioni all'anno perché loro riciclavano bene il cartone e lo vendevano e sono comuni che non hanno bisogno sono ricchi stanno bene l'alluminio si può riciclare infinitamente e allora perché non si può fare questa cosa? perché per loro la fanno e per gli altri comuni diventa difficile cioè i sindaci sono così pigri che fanno gruppo e danno perché io ho chiesto il mio sindaco per esempio gli ho detto ma quanto ti restituisce la CEM? oh ma sai che mi restituisce 75 mila euro ma io dico ma tu sai quanto guadagna la CEM? ecco allora è molto semplice si fa raccolta differenziata anche perché il cittadino poverino paga la tassa su rifiuti però non è colpa nostra se noi facciamo rifiuti è colpa delle aziende che impacchettano ma loro le pagano le tasse su queste cose qua no ecco scusate Marco mi ero dimenticato una cosa brevissima un altro dei problemi potrebbe essere quello degli errori cioè avrete avuto qualche problema legato agli errori no? quindi alla rilevazione della qualità del servizio no? perché so che ci sono queste cose e quindi meglio che che rivolgersi a chi l'ha messa in piedi perché poi è qui che si scontano no? penso a rispondere a queste qua allora rispondo a quelle diciamo sulla tariffa puntuale poi lascio ovviamente sul resto la parola Leonora allora la gestione dei materiali misti bisogna anche lì cercare di ragionare sulla quotidianità delle persone per esempio a Cusano Milanino prima di questo cambio di appalto si faceva il vetro insieme al metallo quindi all'alluminio e la plastica da sola abbiamo scelto invece dato che la quotidianità ti diceva che tendenzialmente l'alluminio deve andare insieme alla plastica perché perché molti materiali effettivamente sono misti plastica alluminio oltre al fatto che abbiamo fatto anche un altro ragionamento che va bene non l'ho accennato per non dilugarmi troppo l'economicità dei rifiuti nel senso che un vetro puro ti viene pagato molto di più che una plastica pura quindi per creare un rapporto e cercare di fare un po' di economia laddove andavamo a spendere qualcosa di più abbiamo introdotto il flusso leggero D che si chiama così che sarebbe il flusso che comprende plastica e alluminio e il vetro da solo in questo modo abbiamo aumentato con più o meno le 67 tonnellate un pochino di margine sui mercuriali abbiamo facilitato la vita ai cittadini perché tendenzialmente i materiali missi sono di questa natura poi la bottiglia d'olio si stacca il tappetino di plastica con un coltello o per esempio poi c'è il tetrapac e con il tetrapac lì c'è una questione un po' particolare perché effettivamente il tetrapac è un materiale che dovrebbe essere bandito perché è un misto di tutto solo che probabilmente non so per quale ragione più o meno forse l'ho capito però è meglio non dirlo magari perché non ne ho le prove però probabilmente è riuscita a convincere qualcuno a farlo riciclare nel cartone e quello è una cosa che è un problema ecco però il tetrapac per esempio ha questo discorso qua quindi per il cittadino a livello domestico è facilitato però i problemi tendenzialmente di materiali missi sono tra plastica e alluminio facendo il flusso leggero D si va a facilitare molto la vita poi qualcosa di misto c'è però anche lì quando hai un sistema del genere nel tuo comune inizi a far politica anche andando a fare la spesa nel senso che inizi a comprare quel dato quei cracker che hanno meno imballo vedo che ogni quando io adesso quando vedo un prodotto guardo che imballo ha cioè proprio mi viene naturale se vedo che è un imballo che ha cartone plastica prendo la marca concorrente che magari ha un packaging meno elaborato ecco meno complicato per quanto riguarda invece allora beh qua mi permetto di dire una piccola battuta sulla reperabilità dato che è stato fatto l'esempio idraulico dato che è un essere che mi rende coinvolto perché ho una piccola ditta di ristrutturazione impianti praticamente succede molto spesso che purtroppo è il discorso del commercio cioè delle politiche economiche che vengono fatte dalle aziende molto spesso mi costa decisamente di più oppure poco meno oppure è molto complicato trovare il pezzo di ricambio della cosa faccio un esempio molto pratico ieri per cambiare una cartuccia di un miscelatore miscelatore del lavabo con il rubinetto del lavabo a un mio cliente sono venuto a andare dato che lui voleva tenere quel miscelatore lì voleva rispondere a qualcosa sono venuto a andare io sono di Cusaminino ad Albiate a prendere la cartuccia perché era l'unico posto dove c'era quella cartuccia di quel miscelatore perché la ditta produttrice l'ho chiamata e diceva devi rivolgerti ai miei rivenditori sul territorio l'unico era Albiate poi era un amico e sono andato a prenderla perché passavo di quelle zone se fosse stata un'altra persona o gli avrei dovuto chiedere il costo in più di andarlo a recuperare e quindi gli sarebbe magari convenuto andare tra una cosa e l'altra comprare un uovo oppure ecco il problema sono le difficoltà che ci mettono quello è il ragionamento che bisogna fare e poi adesso rispondo sul discorso su tutte le domande che mi sono state fatte nell'atto pratico della tariffa puntuale allora costi sostenuti costi esercizi cambi residenze hardware ok per i costi io comunque ho a disposizione il piano tariffiero dei rifiuti che è stato votato a novembre adesso nel dettaglio non lo ricordo ce l'ho dietro tra l'altro poi magari possiamo anche scambiarci i contatti per per girarlo ormai è pubblico e si è non stato votato quindi posso girare senza problemi tendenzialmente però cosa è successo con la commissione che è stata fatta abbiamo appunto disegnato le linee guida dell'appalto poi l'appalto è stato appunto fatto dai tecnici e con tutti i procedimenti che la legge impone però noi abbiamo dato abbiamo creato proprio una struttura molto rigida su alcune cose da fare cosa ha fatto questa questa rigidità nelle richieste ha scartato direttamente alcuni tipi di ditte che non erano pronte e alla fin della fiera si sono presentate poche ditte che avevano la capacità di rispondere a tutte le nostre richieste ha vinto per esempio una ditta una società che tra l'altro è una partecipata comunale di altra zona in Monza Brianza che praticamente aveva già il parco macchine quindi rispondo anche al discorso dell'hardware dotato di antenne per il rilevamento di RFID nel senso che noi non abbiamo non dovete immaginarvi il lomino con la pistolina che va a contare sacchetto per sacchetto ma appunto c'è i mezzi di raccolta di rifiuti sono già dotati di queste antenne e quando passano nel raggio di totmetri che adesso non ricordo leggono tutti gli incipit che derivano dal chip RFID quindi praticamente questa società aveva già tutto e aveva già anche un loro software che poteva leggere quello che poi si è dovuto dotare il comune per fare un controllo diciamo su tutte e due direzioni e quindi la ditta ha vinto perché è riuscita a fare un ribasso abbastanza importante dato che aveva già tutto ovviamente in questo modo crea anche magari una competizione maggiore in modo che spingi le società che operano nel settore a doversi omologare tempi anzi meglio cercare di trovare sempre una nuova soluzione per rendere più appetibile i propri affari per esempio poi in realtà abbiamo in realtà sul discorso servizio accusano abbiamo dei problemi anche non sulla raccolta di nessuno non sulla parte dei rifiuti per esempio la pulizia delle strade si sono venduti che avevano lo sweepy jet che poteva andare sotto le macchine senza spostarle e lo stiamo pagando ma nessuno l'ha visto quindi adesso per esempio dovremmo anche andare a chiedere spiegazioni alla società però lì ovviamente noi stiamo sollecitando l'amministrazione ma l'amministrazione probabilmente anche perché a scadenza se ne sta fregando però comunque diciamo che tutti noi come ho detto prima abbiamo fatto innanzitutto dei ragionamenti sui costi quindi il discorso del flusso leggero D comportava una riduzione di costi il discorso del doppio ritiro abbiamo calcolato prendendo l'appalto vecchio quanto potevamo risparmiare in commissione siamo essi da sviscerare conti su conti e abbiamo capito che magari su quella parte lì potevamo andare a risparmiare mentre invece fare un'altra cosa potevamo risparmiare anche su un'altra cosa abbiamo guardato un po' tutti gli aspetti abbiamo cercato abbiamo fatto proprio i conti della SERV preso capitolo per capitolo quanto costa questo capitolo ah però è così togliamo un ritiro proviamo a vedere così e abbiamo ottenuto questa riduzione poi anche frutto del fatto che la società che ha vinto era già dotata di tendenzialmente tutto siamo riusciti a risparmiare ulteriormente quello è stato fatto però comunque per quanto riguarda sia il contratto in realtà non lo posso girare però il piano tariffero dei rifiuti che è stato approvato nel novembre 2018 di Cusano Milanino lo posso condividere se volete dargli un occhio poi magari se viene salta fuori un dato che vi incuriosisce potete chiedermi se non so rispondervi io perché non sono un tecnico ho fatto un po' di esperienza negli anni su questo settore ma qualche nozione ancora mi manca chiedo a chi di competenza possiamo anche organizzare un tavolo di lavoro possiamo confrontarci in tutte le maniere comunque io sono ben felice di cercare di promuovere diciamo questa operazione che è stata fatta nel nostro meetup e nel gruppo consigliare e poi basta in realtà l'arrivazione qualità servizio ecco allora ecco anche lì ogni tot di tempo mi sembra che a contratto sia ogni sei mesi la società deve darci un resoconto di che cosa è stato fatto di raccolta e dati noi per esempio abbiamo a Cusano esattamente il conteggio di tutti i sacchetti abbandonati e abbiamo un conteggio delle famiglie che non hanno mai preso i sacchetti in un anno e mezzo quasi due sappiamo esattamente chi sono abbiamo il conteggio dei cestini dove abbiamo visto che c'è più abbandono di rifiuto secco in realtà abbiamo grazie a questa tecnologia un insieme di dati che prima non potevamo avere cioè tendenzialmente sappiamo esattamente chi non fa la raccolta differenziata poi lì c'è un problema essendo sotto lezioni almeno questo è un sospetto che ho non lo posso dire con certezza probabilmente l'amministrazione comunale ha scelto di non dare multe per evitare di inimicarsi alcuni cittadini perché abbiamo rilevato che sono 946 famiglie che tendenzialmente o fanno malissimo o addirittura non fanno la raccolta differenziata noi siamo 10.800 nuclei familiari è una buona percentuale non è altissima però sono mille persone quasi anzi sono mille famiglie e quindi in realtà però sono tutte cose che sia la società ci riesce a fornire noi possiamo confrontare possiamo verificare e viene a richiesta del consiglio comunale questi dati vengono discussi tra l'assessore e il resto del consiglio comunale quindi se si mette nel contratto che la società deve fornire determinati dati a scadenze precise riesci anche a fare questo un controllo migliore poi la tecnologia in questo caso ti permette anche ancora ancora di più di verificare tutto quanto poi ci sarà un margine di errore ovviamente tutto è perfettibile siamo partiti da poco sicuramente magari tra due anni ci renderemo conto che ci sarà rileveremo probabilmente che c'è una certa percentuale di errore se andrà a lavorare su quella percentuale di errore cioè è tutto è tutto un divenire cioè qualsiasi cosa è da perfezionare per fortuna che così perché tra l'altro crea anche stimoli cioè ti stimola sempre ad andare meglio benissimo così per il resto sono domande a cui magari passo la palla a Eleonora grazie sì allora io quale rispondo vediamo Europa medioevo del mondo parto da questa che in effetti era abbastanza ma non la metterei così così negativa però è vero che c'è molto moltissimo da fare che siamo veramente ancora in una fase embrionale di piena applicazione dei principi di economia circolare questo è vero è verissimo e il motivo per cui comunque si però giudicano come degli enormi passi avanti l'introduzione dei divieti e quindi appunto l'abbandono delle plastiche monouso per alcuni prodotti piuttosto che appunto degli obiettivi di riciclo di recupero degli imballaggi sono sicuramente dei passi avanti importanti che però è vero sono ancora lontani dall'essere la svolta definitiva la svolta definitiva o comunque delle strade da prendere e da imboccare con più coraggio dovrebbero essere ad esempio dei criteri obbligatori per la progettazione dei prodotti cioè i prodotti che vengono oggi pensati progettati e poi venduti sul mercato devono necessariamente rispondere a dei criteri di sostenibilità perché in realtà oggi esistono sicuramente io peraltro ho studiato al Politecnico ho fatto anche design del prodotto nella mia laurea triennale e sono scappata in realtà gambe levate perché vedevo appunto come in realtà più che progettare cose utili e cose e oggetti con criteri insomma appunto di sostenibilità prevalevano logiche di marketing di mercato e di insomma di vendita della qualunque e questo insomma ovviamente è il motivo per cui ho abbandonato quel corso di laurea e sono andata a fare altro design dei servizi e design strategico quindi tutt'altro ma mi rendo conto appunto di quanto sia importante la progettazione e quindi quanta responsabilità hanno oggi le aziende che disegnano progettano e poi vendono i prodotti sul mercato perché appunto questi dovrebbero rispondere a dei criteri veramente obbligatori per la riduzione della materia la riciclabilità dei materiali che vengono utilizzati la disassemblabilità e quindi appunto la possibilità di essere riparati e in questo maggiori e più forti disposizioni per quello che appunto viene chiamata responsabilità estesa del produttore ovvero la responsabilità del produttore che alla fine del ciclo di vita di quel prodotto deve avere deve essere in capo a chi l'ha prodotto e non tanto al consumatore che ovviamente se ne può disfare in maniera insomma senza troppi pensieri questo sicuramente è un qualche cosa di importante e le disposizioni che oggi ci sono sono ancora troppo morbide troppo morbide il principio qui è molto semplice il principio chi inquina paga che è un principio sacrosanto che dovrebbe essere applicato ovviamente e che però paghiamo sempre noi è vero è vero esattamente la buona notizia che posso dare è che sto approfondendo questo concetto magari qualcuno qui in sala già ne sa di più di me e così chiedo mi sono imbattuta in questo indice di circolarità dell'economia italiana e della produzione italiana e di quella europea e a quanto pare anche in base a questa classifica l'Italia è messa bene cioè l'Italia sembrerebbe più avanzata di altri paesi quindi ha in questa classifica un indice di circolarità della propria economia molto migliore rispetto ad esempio la Danimarca che vi dicevo prima o la stessa Germania che è altro grande paese manifatturiero d'Europa e che invece è a quanto pare molto ai gradini bassi di questa classifica è da approfondire meglio come viene calcolato questo indice di circolarità ma da quel poco che avevo carpito ad un evento che ero stata qualche settimana fa questa cosa mi aveva rincuorato molto perché evidentemente anche noi come italiani spesso appunto ci buttiamo giù ma facciamo male perché a volte in realtà abbiamo veramente delle capacità insomma che non valorizziamo e che se messe appunto a confronto con altri stati anche dell'Unione Europea stessa sarebbero appunto da valorizzare altra cosa che mi viene da dire che può essere utile da anche qui da capire per come trasformare la nostra produzione quindi la nostra economia senza andare per forza appunto a criminalizzare chi fa impresa oggi e quindi andare a perdere poi posti di lavoro o insomma una trasformazione troppo rapida di un modello di produzione e quindi con appunto un disagio poi dal punto di vista occupazionale e qui entrano in gioco anche i famosi fondi europei e anche qui è una nota positiva l'Italia oggi vi porto un bel po' di note positive sono contenta però di questo l'Italia che è fanalino di coda nell'uso dei fondi indiretti fondi strutturali quindi quelli che vengono erogati tramite le regioni le regioni ma è ai primi posti della classifica per intercettare i fondi diretti i fondi europei diretti quindi quelli che paradossalmente sono più complessi da raggiungere perché la competizione a livello europeo sono quelli da fare in inglese sono quelli da fare insomma da chiedere direttamente alla commissione europea ma dove però tutto è molto più trasparente la procedura di aggiudicazione è anche molto più trasparente e lì penso al bando LIFE l'Italia è la prima la prima in Europa ad intercettare al meglio i fondi per l'ambiente e quindi anche l'economia circolare perché questo fondo questo programma che si chiama appunto LIFE è dedicato proprio all'azione per il clima e all'economia circolare quindi insomma la cosa bella è che questi programmi questi programmi di finanziamento finanziano proprio delle soluzioni innovative dei progetti innovativi che hanno poi la possibilità di essere replicati quindi scalabili e quindi diffusi per trasformare veramente appunto la nostra economia questo spero di aver dato un po' anche un segno così di speranza il suo giovanissimo per due tre secondi diretti lui fa vaccinando le gomme delle macchine dei cordi fa stampa i finali per i bileni cioè le travergine invece di fare il bileno di quale possono dire adesso le fanno in 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 lui ha preso i rotelli diretti perché non voleva andare all'università però si stanno tramettando questo traverso infatti il treno va bene l'amore quando parte per cui non è un po' bene allora Marco ho seguito con molta attenzione il tuo discorso e devo dire che vabbè è da tanto tempo che ci sto dietro e volevo capirne di più allora più ricicli e meno paghi è una cosa che già di per sé incuriosisce però la mia domanda era semplicissima nell'economia circolare rientrano per caso quelle famose macchine autocompattatrici che ha messo Fabio Fucci a Roma tipo fuori dal supermercato metti quella macchinetta della plastica piuttosto che del vetro cioè e hai un guadagno subito mentre invece vabbè nell'economia circolare quella di che fate voi a Cusano è una cosa che attenzia però uno si ride conto del guadagno che ha a fine dell'anno se io paga meno in base a quello che riesce a come dire a differenziare giusto mentre invece nelle macchine a compatte ce l'hanno subito il guadagno cioè volevo dire se rientra se le macchine rientrano in questa economia circolare grazie è un tipo di vuoto a rendere io ho tre cose da dire una per rispondere alla signora io penso che il servizio dei rifiuti dovrebbe essere una cosa in capo ai comuni cioè dovrebbe essere pubblico bene il pubblico e il privato io non ho niente contro privato ma i servizi base dei cittadini dovrebbero essere pubblici e di competenza del comune a Milano l'ATM dovrebbe essere una divisione del comune o l'AMSA dovrebbe essere una divisione del comune e non una società esterna l'altro l'altro discorso è con Marco giustamente lui diceva plastica monouso non ne faremo più utilizzo a breve questo vuol dire che la prima risposta automatica è la carta e cartone carta e cartone vanno non sono mentre adesso io il piatto di plastica gli davo una sciacquata e lo mettevo nella plastica o non gli davo neanche la sciacquata e lo mettevo nella plastica se non puzzava se non adesso la carta e il cartone vanno nell'indifferenziato di sicuro per cui fino a che non passiamo all'alluminio dove laviamo la carta e il cartone non li laviamo e quindi incrementerà l'indifferenziato e diminuirà il differenziato plastica il terzo punto che volevo così suggerire a Evi è quello del giustamente parlava della composizione del marketing dell'imballaggio dove il marketing cerca di venire incontro o stimola la produzione di imballaggi che fanno vendere di più il prodotto non sono loro i colpevoli unici di questa produzione ma sono e qui veniamo all'eccellenza dell'Italia di nuovo sono quelli che fanno gli apparecchi che fanno le macchine come diceva lui prima io ci siamo rivolti a quello a quella società che aveva già le macchine per riconoscere tutti i sacchetti e mapparci tutta la gente così chi inventa la macchina per accoppiare l'alluminio con la carta piuttosto che usare inchiostri che sono vietati per fare più bello per fare il rosso più rosso sono questi che dovrebbero essere in prima battuta e siccome noi siamo creativi bene a questi che fanno questi apparecchi dovremmo dire fate gli apparecchi che servano a dividere gli imballaggi che voi avete accoppiato quindi non date la responsabilità dell'ultimo del rientro a chi lo ha messo sul mercato ma chi ha aiutato ad inventarlo e a produrlo grazie io una domanda veloce per Marco riguarda i sacchetti cippati volevo capire dal punto di vista logistico come funzionava perché a me viene in mente l'esempio tipico che so della famiglia dove hanno orari particolari e non sono sempre disponibili per dire andare a ritirare in un posto piuttosto che l'anziano che non esce di casa come funziona materialmente la questione del sacchetto cippato perché attualmente normalmente uno sacchetto se lo può andare a comprare anche al supermercato e quindi tendenzialmente ognuno fa una sua spesa e non ha un problema ma se il sacchetto è cippato presumo che debba passare dal comune in qualche modo o comunque da un ente pubblico perché non te lo può dare al supermercato sacchetto cippato quindi voglio capire come funziona dal punto di vista logistico e quali difficoltà avete incontrato l'epoca dell'uomo l'antropogene cioè il mondo che l'uomo sta costruendo e quindi quello che ci lascerà è riconosciuto attualmente come il mondo della plastica noi siamo circondati di plastica da tutte le parti componenti di plastica strutture intere di plastica ma da ogni parte abbiamo molta plastica basti ricordare che nel pacifico c'è un'isola di plastica grande come continente europeo e si parla soltanto dei primi 40 cm di profondità senza considerare tutto quello che c'è sotto io non so se questa è una domanda per te Eleonora però è una domanda per Marco è una domanda squisitamente politica spesso e volentieri nel comune si crea astio fra movimento e le altre fazioni quindi volevo sapere proprio a livello politico come avete affrontato questo riuscire a coinvolgere la parte avversa diciamo che solitamente è avversa e portare il tutto verso la vostra direzione e poi volevo sapere dalla regione cosa state facendo in merito perché io mi sono perso parte dell'introduzione non so se avete fatto hai detto qualcosa e mi dispiace perché quando parli tu è quasi interessante qualche volta grazie devo ringraziare Marco che sfrutterò perché a Como stiamo andando a bando rifiuti 2020 in bando di decine di milioni di euro per noi per cui sicuramente è tutto interessante anche perché abbiamo convinto il consiglio comunale a procedere con la tariff quindi con la tariffa puntuale e quindi il nuovo bando dovrà ovviamente prevedere quei paletti che giustamente sono necessari per la selezione dell'azienda che andrà a fare la raccolta per cui grazie dell'incontro un tavolo sicuramente secondo me può essere interessante proprio perché propedeutico a chi deve andare a bando perché è il vincolo se il bando non prevede determinate metodologie di raccolta se non mette determinati paletti è la tariffa puntuale stessa poi che non riesce ad essere applicata quantomeno in una maniera incisiva per il cittadino per attivare quel percorso virtuoso che deve aumentare quello che è il rifiuto indifferenziato per cui sappi che dovrò disturbare invece per l'onora io condivido pienamente il discorso di quello che sarebbe l'eliminazione dell'obsolescenza programmata perché di fatto abbiamo visto i programmi stessi tu facevi l'esempio classico e quello del cellulare che sviluppano programmi in modo che la stessa lo stesso hardware non sia più all'altezza per poter utilizzare quell'hardware e quindi devi per forza buttare l'apparecchio e quindi quello è sicuramente qualcosa che va portato avanti come secondo me va molto portato avanti il discorso del riuso quindi non limitarci al discorso del riciclo e da questo vorrei capire se dal punto di vista europeo si si stia anche analizzando un discorso di impronta ambientale un'impronta ambientale che ha il riciclo perché per esempio una cosa che anche Marco ha ricordato che è venuta alla luce col discorso della differenziata è tu produci un sacchetto di indifferenziata una volta al mese quindi noi cos'è che abbiamo creato? Abbiamo creato soprattutto su cittadine grosse come per esempio Como ma immagino Milano ancora peggio elevato alla decima potenza dei camion diesel purtroppo che girano per la città a raccogliere ma che non raggiungono il carico la plastica per esempio gli ecocompattatori sono utili ma perché? Perché noi abbiamo camion che girano con 100 kg di plastica che quindi hanno un'impronta ambientale notevole hanno un inquinamento notevole per riciclare e recuperare una materia prima che ecologicamente nemmeno paga il danno che ha creato per raccoglierla e lo stesso discorso l'abbiamo sull'indifferenziato perché producendone sempre meno quei comuni che sono arrivati a produrre il 10-15% di indifferenziato noi abbiamo camion che girano per la città ma non riescono nemmeno a raggiungere il loro carico e quindi inquinano senza produrre per cui il riuso ovviamente deve essere utilizzato e da quel punto di vista lì so che può sembrare un passo indietro però io ho visitato un'eccellenza del territorio comasco che non sapevo che esistesse purtroppo che loro producono e progettano linee di separazione del rifiuto loro ormai tolto quello che può essere l'organico garantiscono la separazione del 100% del rifiuto la normativa in Italia secondo me andrebbe rivista quindi dal punto di vista governativo bisognerebbe impegnarsi perché i rifiuti hanno ormai normative che sono datate non sono più al passo coi tempi però per esempio loro vendono questi impianti Stati Uniti e Cina soprattutto perché là non separano più il rifiuto cioè praticamente lo stesso camion raccoglie tutti i rifiuti indistintamente vengono portati a questo impianto e questo impianto separa il 100% del rifiuto quindi loro con un unico camion possono passare due volte alla settimana e raccolgono tutti i rifiuti perché noi poi abbiamo suddiviso quindi come dicevi la plastica facciamo una volta alla settimana il vetro una volta alla settimana due volte magari per l'umido per cui abbiamo moltiplicato quelli che sono i mezzi di trasporto e quindi magari anche un pensiero perché bisogna andare anche al passo con la tecnologia quindi se oggi la tecnologia permette di separare il 100% dei materiali non è forse essersi fermati nel dire suddivisiamo e facciamo ancora la raccolta differenziata grazie io avevo un'unica domanda osservazione avevo letto nell'autunno dell'anno scorso un rapporto dell'IPCC l'Intergovernmental Panel of Climate Change che prevedeva o comunque si affermava un cambiamento climatico nei prossimi 12 anni con innalzamenti di temperature sui 2 gradi e mezzo circa con conseguente cambiamento dell'ecosistema e anche danno irreparabile c'è tra volevo capire se questo abbia comportato qualche mutamento di veduta a livello europeo oppure visto che il pacchetto economia circolare non è proprio attuale cioè era in discussione già da tempo se questo ha portato una spinta o comunque una velocizzazione verso un'economia circolare o comunque un'attenzione maggiore al clima all'ecosistema oppure si è scivolato un po' come è scivolato alla fine sui giornali che se ne è parlato un mese o due e poi è sparito tutto finisco le ultime io volevo porre un problema però di natura forse più etica e politica che altro mi pare che nella nella vicendarci nel trovare soluzioni sulla punto differenziata e come gestire il problema ci dimentichiamo di un dato e il dato è quello della battaglia per non creare i rifiuti e mi pare che apprezzo molto l'esposizione di Marco che è oltre che sintetica precisa e sapiente ci aiuta anche a gestire da subito nelle varie realtà locali il tipo di problema e anche l'intervento di l'onora che ci ha dato altri dati informativi sulla sette europeo però non dimentichiamoci che la vera battaglia nostra deve essere quella di natura io la definisco etica perché la natura ci ha regalato una terra che è meravigliosa l'uomo non per fare adesso il prolisso ma la sta rovinando e quindi non perdiamo mai di vista quello che è il perché del movimento che si propone di cambiare delle logiche quella del profitto per esempio di cambiare delle dinamiche quelle dell'inquinamento della natura di cambiare anche delle prospettive cioè il far godere a tutti i cittadini liberi il bene della terra una precisazione in quest'ottica in questo discorso io vedrei molto bene un impegno del movimento e anche a livello europeo per esempio su quello che è la ricerca di materiali la grande distribuzione che è una una delle situazioni responsabili della creazione del rifiuto e dell'abbondanza del rifiuto inutile grazie al packaging che deve essere funzionale alla vista alla collocazione di scaffali eccetera unita alle aziende che producono i materiali scarsamente si pongono il problema vuoi per il discorso dell'efficienza produttiva vuoi per il discorso del guadagno di come sia possibile ottenere dalla natura i materiali ecocompatibili una battaglia che io proporrei per il movimento è per esempio quella di darci nell'arco di ovviamente non si può fare oggi per domani o un mese per l'altro o un anno per l'altro in scadenze temporali a breve termine l'impegno di imporre primo alla GDO grande distribuzione tutta una serie di interventi sulla riduzione del packaging secondo tutta una serie di interventi sull'utilizzo di materiali esclusivamente ecocompatibili io per esempio ho scoperto io vivo a Sesto San Giovanni che il comune di Sesto che ha fatto un grande passo grande tra virgolette rispetto al comune di Marco salto nella differenziata ha dovuto conferire anziché al Coreco e alle altre aziende che riciclavano la plastica per esempio tutto l'imballaggio plastica all'inceneritore perché questi non l'accettavano più non sapevano più che cosa farsene questo è il paradosso quindi secondo me come movimento conviene che noi interiorizziamo quello che dovrebbe essere il nostro valore e cioè quello di arrivare a non produrre rifiuti e lo possiamo fare imponendo nei termini tre anni cinque anni a livello di legislazioni nazionali e anche poi i proventi locali l'impegno a non produrre materiali non ecocompatibili attenzione qui apriamo una piccola parentesi non basta mettere il prefisso eco per dire che un materiale non è compatibile pensiamo al paradosso dell'ecopelle l'ecopelle è il materiale più cancerogeno che ci sia scommetto che le donne qui presenti hanno tutte le borse in ecopelle no per esempio adesso dico quindi non basta non basta le finzioni terminologiche ci sono fonti di ricerche si sfruttano le fibre delle piante si possono sfruttare tutta una serie di materiali riciclati certo sono processi lunghi nel tempo l'importante è che noi interiorizziamo la filosofia di questo per arrivare poi anche a eliminare quei residui con le dinamiche che Marco ci ha risposto però avendo una quantità minima poi anche perché poi c'è un altro rischio quello della privacy io prevedo che se dovessimo portare all'estremo questo discorso del microchip eccetera cazzo io già siamo schiavi sul territorio fra un po' dovremmo autocontrollarci perché vivremo in un sistema di schiavitù totale le telecamere i microchip il telefonino basta diamo le dimensioni da umano scusate raccogliamo raccogliamo le ultime domande perché sennò poi diventano troppo da rispondere non abbiamo ancora una grande autonomia però alzate la mano per favore gli ultimi che voglio intervenire Massimo iniziamo dalle donne gli ultimi tre io velocemente sì scusate cerco di essere veloce una cosa che mi è venuta in mente ascoltando i vostri interventi facciamo un esempio i sacchettini del supermercato dove siamo stati obbligati dopo tutta la polemica a mettere la frutta sono ecco cioè sono fatti apposta peccato che poi vai lì ti appiccicano l'etichetta sopra e allora è vanificato tutto il senso della cosa quindi io cioè a me ormai mi conosco al supermercato perché io me le appiccico sul cappotto e lo riciclo perché sennò non ha senso quindi secondo me bisogna anche fare attenzione sulla cosa ecco cioè riciclabile che però ci appiccichi una cosa sopra che te lo rende non più riciclabile come pure volevo rispondere a qualcuno che parlava della sostituzione dei piatti interamente l'utilizzo del monouso in tutto il palazzo quindi anche chiedere e invitare tutti gli uffici oltre che i gruppi politici di non usare appunto di non utilizzare nessun più tipo prodotto sulla plastica esatto e poi poi sì il discorso di scienza programmata è collegato a tutto quello che state dicendo prima che ha citato anche Eleonora e che comunque è sempre in chiave purtroppo ha una promessa sempre fatta molto a slogan cioè prima erano le tre R adesso sono le cinque perché c'è anche il redesign che va nell'ottica del concetto che diceva prima come Eleonora giustamente per il diritto che ogni persona abbia un prodotto che si può smaltire in modo facile che quindi appunto quella bottiglietta o chiunque qualsiasi altro prodotto non deve essere il mio problema come dicevi giustamente non deve essere il mio problema cosa farne deve essere già congeniato ideato quando è disegnato proprio appunto dal punto di vista ingegneristico dalla bottiglietta al telefonino o qualsiasi altra cosa in modo che come un po' era già prima con le lavatrici perché prima maggior parte dei prodotti erano fatti proprio per sostituire il singolo pezzo oltre che durare oltre 20 anni quindi tanto per dirvi sicuramente su tutti i fronti partendo Eleonora in Europa portiamo avanti la lotta anti-obsolescenza programmata perché anche questa è una parola sembra sofisticata ma purtroppo molte persone ancora non conoscono neanche il significato e la profondità del concetto prego da quali parto parto da Fabio che riguardo la 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 raccolta differenziata e la possibilità di avere appunto delle aziende che oggi sono anche all'avanguardia nel fare un lavoro che evidentemente sgraverebbe quindi il cittadino nel fare appunto questa operazione che a volte appunto ci mette davanti all'incognita dove lo dovevo mettere dove lo dovevo buttare quindi poterlo fare a posteriori questo secondo me sarebbe una una grande passo avanti nella direzione giusta e si avvicina quello che era il modello che è ormai in in vigore in piedi a San Francisco in California da tantissimo da tantissimi anni dove appunto esistono solo ecco le vendono lì immagino ecco vedi dove appunto questi tre gli unici tre bidoni sono appunto l'organico l'indifferenziato e tutto il riciclato insieme in effetti è una soluzione interessante a livello europeo invece mi ricollego poi alla domanda invece di Ilario sulla anche sulla simbolo non ci sono delle vere e proprie indicazioni né quindi sulla raccolta differenziata su come farla e neanche quindi sui simboli da mettere sui materiali proprio perché la gestione della raccolta differenziata e quindi del come uno stato membro decide di fare queste operazioni è demandata allo stato membro proprio in sé e quindi a livello europeo non ci sono delle vere e proprie indicazioni su questo quindi appunto come vi dicevo l'Europa ti dà degli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda il recupero e il riciclo ma non ti dice come farlo e questo è un po' sempre lasciando appunto allo stato membro trovare la strategia migliore poi peraltro anche a livello poi italiano ci sono delle delle imposizioni a livello nazionale ma poi le regioni anche qui e poi i comuni hanno a cascata competenze diverse per quanto riguarda invece mi trovo molto d'accordo sulla gestione pubblica gestione pubblica dovrebbe essere favorita anche in queste anche in questo settore mentre penso un po' come diceva prima Chiara che in effetti andando ad abbandonare la plastica monouso ci possano essere delle alternative che però siano appunto insomma spero veramente ecocompatibili e quindi sostenibili e quindi poi mi riallaccio a quello che diceva anche Sergio è vero dobbiamo fare anche una riflessione su cosa poi lo è veramente senza prendere abbagli perché e quindi in questo senso la ricerca deve essere veramente potenziata la ricerca sui materiali sui materiali innovativi quelli che poi possono imitare i cicli della natura e quindi senza andare poi a creare appunto rifiuto a monte ma neanche appunto poi a nell'uso dei prodotti stessi e vediamo cos'altro mi sono segnata avete fatto tantissime domande anzi io tra l'altro vi ringrazio perché alcune sono anche state molto interessanti anche utili poi per riflettere ragionare insomma cogliere prendere spunti per poi anche crescere esatto assolutamente e chiudo forse sull'IPCC perché il rapporto che c'è stato a cos'era ottobre novembre dello scorso anno è stato un rapporto importantissimo che ha fatto l'effetto terremoto più però a livello di se vogliamo prese di posizione così molto di facciata piuttosto che concretamente poi nei file legislativi che si sono andati a votare e questo lo dico perché per fare proprio l'esempio concreto nonostante pochi giorni dopo questo rapporto così allarmante perché appunto ci mette davanti a una situazione drammatica dove l'aumento della temperatura ormai è praticamente un qualche cosa di dato per certo e bisognerà appunto capire quanto e come riusciremo a stare sotto l'aumento perché l'accordo di Parigi ci chiede di stare sotto i due gradi preferibilmente un grado e mezzo e già un grado e mezzo vuol dire uno stravolgimento del nostro pianeta e dei nostri del clima che veramente con quelle conseguenze disastrose appunto che vediamo che abbiamo vissuto anche noi peraltro in Italia anche negli mesi scorsi in diverse occasioni ecco questo a pochi giorni da quel rapporto eravamo a votare i regolamenti sulle emissioni delle auto e quindi un settore fortissimo potentissimo a livello europeo e dietro le famose porte chiuse dove prendono le decisioni in consiglio non tanto in Parlamento dove più o meno è tutto trasparente ma in consiglio i paesi come Germania e Austria hanno fatto il diavolo a 4 per evitare di avere un regolamento ambizioso in quel caso io posso dire fortunatamente l'Italia si è posizionata finalmente anche cambiando radicalmente la sua posizione rispetto al governo precedente e questo ci dovrebbe fare ci dà grande soddisfazione grande piacere ci inorgoglisce però bisogna devo anche essere ve lo dico la Germania e Austria e quindi quei paesi che anche in questo caso vengono percepiti come green come verdi come proiettati verso la sostenibilità in realtà sono quelli che frenano e stanno frenando e che di quei rapporti fanno delle gran parole delle grandi uscite mediatiche ma poi alla prova dei fatti si tirano indietro e questo purtroppo è molto grave vai Marco allora io parto da in realtà sono state esatto come ha detto Leonora domande molto pertinenti che in realtà mi stanno facendo riflettere io stessa su alcuni spunti effettivamente che poi è quello che poi è servito il forum cittadino la stessa commissione ha creato questa cosa qua faccio in realtà rispondo da una domanda forse tra le più semplici ma in realtà la più complicata che è quella della macchina a mangiare fiuti io sinceramente in tutta sincerità non saprei cosa dire nel senso che non sono la vedo in realtà come una buona cosa ma dall'altro caldo non sono perfettamente convinto perché perché queste macchine a mangiare fiuti sono tendenzialmente di proprietà privata nella maggior parte dei casi e tendenzialmente ti danno come veniva detto prima quella dell'UNES ti pagano pochissimo in realtà conviene molto di più che questo rifiuto venga gestito dal tuo municipio e venga poi dato in gestione al consorzio anzi venduto scusate venduto al gestore al consorzio che lo compra anche perché non so cosa ci faccia il supermercato piuttosto che sia magari lo rivende lui e quindi tu ti prendi un centesimo lui se ne prende 20 e alla fine è stato più furbo lui no in realtà ecco però insicente non conosco bene il funzionamento quindi io ho fatto questo ragionamento ecco però non sono certo che sia che vada così però come prima impressione riflettendo adesso mentre Eleonora e Luigi parlavano mi è venuta in mente questa cosa anche perché comunque Pieri Comuni l'ha differenziata per come poi è veramente sviluppato adesso la gestione dei rifiuti perché in realtà il discorso del ridurre i rifiuti come è stato detto prima è in realtà il nostro obiettivo cardine l'obiettivo principe infatti anche nelle slide che ho preparato il titolo era accusano minalino verso rifiuti zero cioè la tariffa puntuale è benissimo però è il primo passettino probabilmente magari con la tariffa puntuale facendo imparare alle persone anche a far politica come dicevo prima facendo la spesa quindi scegliendo un packaging piuttosto che un altro si può arrivare a rifiuti zero un rifiuti zero reale perché effettivamente è ripeto il nostro principio cardine sono completamente d'accordo con quello che è stato detto ma al 100% sul discorso servizi di rifiuto pubblico concordo personalmente il mio sogno è quello di arrivare un giorno ad avere una società partecipata comunale consortile tra comuni per esempio ovviamente faccio riferimento al nord Milano che è la mia zona noi abbiamo un tessuto urbano molto simile tra l'altro estremamente compattato che poi è anche la zona di Eleonora e Luigi e effettivamente certi servizi come quello dei rifiuti secondo me sarebbero da gestire pubblicamente insieme perché comunque insieme poi effettivamente ridurre i costi magari altre zone non riuscirebbero a fare così per questioni geografiche però è tutto da vedere ma noi per esempio stavamo pensando sui PSA che poi abbiamo avuto l'idea che è un tamponamento per adesso del sacchetto viola in realtà il nostro problema era che ci siamo informati su se esistevano aziende fabbriche non so come strutture strutture diciamo che riusciranno a reciclare il pannolino abbiamo scoperto che esistono due una a Dancone e l'altra a Treviso il Treviso da quello che ho capito serve il consorzio Contarina che è un consorzio che fa la tariffa puntuale da 15 anni e la fa in una maniera meravigliosa e l'altro è da Ancone il problema che cosa finché siamo un comune di 20.000 persone ma anche se fossero 100.000 persone non potremmo sostenere i costi per andare fino a Treviso a portare i pannolini ogni giorno ogni due giorni però nel momento in cui siamo diventiamo un insieme di comuni di 500.000 persone allora a quel punto puoi farlo quindi non devi neanche più fare il sacco viola ma vai a riciclare direttamente il prodotto assorbente sanitario ovviamente questo è ancora una cosa scritta sul libro dei sogni però sognare non costa niente ci proviamo o magari cercare di incentivare un'azienda ci sono un sacco di soluzioni quello vedremo vedremo il problema è la gestione cioè puoi riciclarlo però il pannolino contiene cose non gradevoli ecco il problema è quello ma allora vuol dire di buttare tutti i giorni lui è un po' e non potrebbe essere compostabile probabilmente perché no però il contenuto perché non è che quello che arriva dall'uomo diciamo non è che sia proprio un gran fertilizzante perché noi mangiamo cose che non sono proprio il massimo della salute quindi i farmaci che assumiamo quindi il problema è che diciamo che un bovino ci dona un prodotto assolutamente migliore per fertilizzare i campi si dipende dipende si dipende sempre dove però noi sicuramente siamo messi male no poi allora per quanto riguarda invece il discorso dell'astio tra le forze politiche allora questa è una bellissima domanda sì c'è astio però è vero anche che noi ci siamo sempre comportati con con durezza ma anche rispettando tra virgolette l'avversario politico nel senso quando uno dice una cosa buona o un suggerimento buono diciamo grazie bene e lo seguiamo se qualcuno dice una pirlata gli diciamo direttamente che ha detto una pirlata quindi in realtà probabilmente è stato apprezzato questo poi io e Benedetto eravamo proprio una strana coppia io sono un po' più teatrale lui è un po' più pignolo ecco abbiamo veramente fatto cinque anni abbiamo creato un teatrino cioè che poi ha prodotto anche dei risultati è stata anche un'esperienza molto divertente e quindi diciamo magari quando c'era da picchiare l'avversario si sguinzagliava Benedetto quando magari c'era da più fare un po' più di cercare di portarlo dalla tua parte allora mi sguinzagliavano me ecco abbiamo creato un bel rapporto di squadra esatto poi a volte anche ci invertivamo dipende dagli argomenti perché magari c'era un argomento che era più sentito da me mi incazzavo io però c'è stato sì un astro però devo dire che questo punto poi in particolare era veramente stato presentato bene perché noi siamo arrivati che gli altri non sapevano veramente quasi nulla noi invece eravamo molto avanti perché oltre a me che mi ha sempre interessato la gestione dei rifiuti ma veramente tanto avevamo un paio di persone all'interno del meetup che veramente ci tenevano tanto e mi hanno trasmesso cioè già io ero interessato e mi hanno diciamo ancora di più trasmesso questa passione quindi eravamo già preparati quando siamo arrivati a presentare tutto quanto siamo stati anche convincenti quindi non c'è alla fine è stato poi uno scontro c'è stato un po' lo scontro con la Lega in realtà nel nostro caso però la Lega in realtà mi aveva detto il capogruppo mi aveva detto guarda che tu stai facendo il gioco cioè stai aiutando il PD vai io non voglio farle parte perché così stai danno un regalo e io gli ho detto guarda secondo me stiamo facendo un regalo alla cittadinanza poi lui non ha partecipato ai lavori però poi alla fine ha votato in certi punti a favore del provvedimento e perché comunque probabilmente si è fatto un esame di coscienza ha capito che effettivamente era una cosa che andava non c'era da mettere il cappello a volte bisogna quando sei minoranza bisogna anche dire far credere alla gente che l'ha fatto lui bravo dai bravo l'hai fatto te complimenti gli fai l'applauso l'importante è portarlo a casa se è una cosa che va nella nella dell'interessa della comunità poi nel senso ognuno poi sceglie dipende anche chi ti trovi davanti ovviamente per quella va bene la battaglia non creare i fiuti siamo d'accordissimo ecco il discorso della privacy ecco questa cosa è molto importante però è verissimo viviamo in un mondo che da questo punto è terribile però sul discorso dei sacchetti e questa cosa mi è stata anche rilevata a un cittadino bisogna rendersi conto che nel momento in cui io conferisco il mio sacchetto sul ciglio della strada o nella stazione rifiuti quel sacchetto è riproprietato del comune e il comune il comune se avesse un vigile per cittadino potrebbe mandarti un vigile a aprirti il sacchetto e controllarlo quindi in quel momento non è più tuo e quello che c'è dentro se non vuoi farti vuoi farti riconoscere devi metterti lì a strappare ogni singolo pezzo di card ogni singolo riferimento però in realtà il principio è proprio questo non si commette nessuna violazione della privacy e non c'è neanche il rischio di farlo perché nel momento in cui conferisci il rifiuto non è più tuo è del comune almeno così funziona ora poi magari un domani diventerà un altro discorso però essendo poi del comune io con quel sacchetto ci faccio un po' quello che voglio se te lo voglio controllare te lo controllo e quindi il discorso del CIP va un po' sul sacchetto nella fattispecie va un po' a perdersi anche perché poi giustamente io come comune se ho la possibilità tecnologicamente di avere un tracciamento migliore più approfondito della gestione dei rifiuti è giusto anche che prenda questa dotazione e faccia il mio lavoro poi allora dati per tipo di conferimento questa è l'ultima domanda che mi è stata rivolta allora tendenzialmente questi dati nello specifico ce li abbiamo appunto nel piano tarifero che accennavo prima in questo momento devo dire la verità non anche per presentare questo discorso qua per non mettere troppa carne sul fuoco non ho a memoria i dati che sono stati votati è vero che quello che ho notato è che alcuni tipi di mercuriale sono aumentati e altri no poi c'è anche una panoramica molto precisa sul discorso su altri tipi di materiali farmaci batterie abbiamo visto che in un certo periodo dell'anno sono aumentate le batterie delle auto batterie delle auto in cui c'era un punto passavano da 10 a 1000 non si sa che cosa sia successo poi ho visto per esempio ingombranti e inerti lì essendo io poi del mestiere mi sono reso conto perché effettivamente c'era in quel periodo lì un grande tante persone facevano lavoro in casa e quindi questi dati qua effettivamente ho verificato almeno per quanto ne potevo sapere che collimavano in realtà con la realtà la raccolta e qua mi attacco con un discorso noi adesso abbiamo parlato prima di chili pro capite e anche di percentuali ed è giusto l'asservazione che è stata fatta perché i chili pro capite sono in realtà il vero dato che ci interessa cioè i chili pro capite di indifferenziato gettato è quello che in realtà ci interessa molto più della percentuale di raccolta differenziata perché tu mi puoi fare anche il 90% di raccolta differenziata però se mi butti 400 chili a testa di secco nell'inceneritore poi ricicli tutto il resto non è un buon dato cioè quello che devo fare è iniziare e lavorare sulla riduzione per quello ero molto entusiasta su quei 16 chili pro capite risparmiati all'anno perché è un quello è un indice di bontà della raccolta cioè è uno degli indici di bontà della raccolta per esempio noi prima avevamo una raccolta molto come avevo detto prima a Cusano già partivano un donato molto alto da quando ho iniziato a fare il consiglio comunale eravamo già in toro superiore al 60% sintoma di gran lunga 65-67 però avevamo dei chili pro capite decisamente più alti e allora lì era sintoma del fatto che la raccolta differenziata non era fatta al meglio delle proprie possibilità comunque tutto un discorso in divenire effettivamente adesso purtroppo noi finiremo il mandato il prossimo anno e non sapremo se qualcuno prenderà il nostro posto perché come Cusano o come tanti meet up in zona ha una crisi di partecipazione abbastanza elevata siamo veramente messi male dal punto di vista della partecipazione però noi come cittadini e conoscendo ormai la materia possiamo fare in modo perché esistono sempre le interrogazioni civiche quindi da cittadino posso fare un'interrogazione mi risponderanno magari in tre mesi però mi risponderanno e monitorare la situazione dato che sappiamo come partire e cosa andare a vedere penso spero che sia un lavoro più semplice e ci permetterà di creare uno storico molto più diciamo penetrante ecco nella questione e se non ho dimenticato nessuna domanda penso di aver risposto a tutto vi ringrazio per avermi ascoltato e averci ascoltato grazie abbiamo terminato anche il tempo spero che sia stato utile grazie ai relatori e soprattutto si ripeterà l'evento nei comuni che mostreranno interesse e volontà di farlo perché ad esempio come ci è stato citato prima per la campagna elettorale ma anche in generale per i gruppi attivi un'eventuale testimonianza come è successo a Cusano e Melino secondo me è da valorizzare grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.